Rai se non puoi mangiare i titoli I titoli, i titoli Eccoci Ma sono già dentro Sei già in live, sei già famoso Il potere della tecnologia Hai visto Sei in live e sei anche incredibilmente quasi tutto fuori dall'inquadratura Aspetta, ah ma questo è il... hai ragione Ma perché noi vecchi ormai non ne sappiamo più Ma che noi vecchi che ci avrai sì e no vent'anni Undici, undici Undici anni, perfetto E carissimo, è un vero piacere averti qui Scusa, scusatemi tutti Perché dovevo fare l'inordio, non so se l'avevi detto Però ho fatto tardi Sì, no, no, ma va bene perché così ho preparato le domande dell'intervista Abbiamo anche delle domande Sì, è certo Ma che mica veniamo qua a fare... ho fatto delle domande Alcune saranno serie perché sono curioso E altre sono delle cazzate Iniziamo con una serie Ma tu hai la R Moscia No, no, si sente che non ce l'ho? Aspetta, mi dicono che mi sento basso Aspetta un attimo No, ti ho alzato, ti ho alzato Ah, stai leggendo la chat Attenzione No, ho visto... ho aperto ora E voglio dirti sta cosa Non so se lo sai Non so cosa mostri nel tuo canale Anche se a volte ti seguo Perché mi dice che sei destinato ad un pubblico adulto Lo sapevi tu? Sì, perché poi dopo dobbiamo... Cioè, vedi che le telecamere sono di fianco Cercheremo di... tipo io metto qua i coglioni E l'inizio del cazzo E tu metti il resto Sai quella piccola gag che si fa a volte fra amici? È vero, sì Io lo faccio sempre Anche nelle videochiamate di lavoro può capitare Che il capo ti dirà Ah, dai, facciamo la cosa del cazzo Sì, sì Un classico Nel club delle serie No, in realtà, vabbè La cosa della remoscia era una cazzata No, non ce l'ho comunque C'ho questa... non so I più attenti Si saranno accorti che ho questa voce un po' nasale acuta Però... È la mia Ecco, la domanda che aveva di più Ma la fai o ce l'hai? Sta domanda qua, sì No, è la mia No, io non l'ho messa Anche perché ti devo dire la verità Questa è la mia vera voce E mi vergogno molto Quindi non volevo tirare fuori l'argomento Possiamo farla tutta Sembra castrato ora Sembra rank ma castrato Puoi farla tutta così? Perché in realtà non le ho Era solo per far vedere che hai soldi Hai le cuffie wireless No, perché ho provato a metterle Ma mi vergognavo a dire Aspetta un attimo Perché non... Mi vergognavo Non ti preoccupare, non ti preoccupare Ehm... Vabbè, comunque Ehm... Ok, quindi la domanda Minchia Sei stato intervistato da geni del giornalismo Se questa è la domanda che ti fanno di più sulla voce Allora La prima volta me l'hanno fatta a Radio DJ Ah Ehm... Wad Non so se lo conosci Se lo vuoi salutare Ehm... Carissimo So che ci segui sempre Wad Sì, mi fece questa domanda Ma la tua voce Anche perché in radio È ancora di più Cioè non vedi la persona E quindi dici Questo Una cosa che mi succede sempre Questa voce mi ha dato il potere Che è un potere Ma anche un'umiliazione personale Quando chiami i call center Tipo quelli di assistenza Ehm... Non è Ciao O salve Lei Uomo E stanno Ci sono i tuoi genitori Ah, signora 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 Quindi io Io me la spaccio Ehm... Così E sembro una Una donna anziana Un po' mafiosa Calabrese Con questo accento Ci sta Beh, una voce un po' Beh, c'è chi con la voce nasale Ci ha fatto una carriera Saluto il caro Eros Però Ehm... Tu hai mai Hai mai cercato Cioè una cosa che ti dà fastidio di te Hai mai cercato di cambiarla? Allora Da piccolo Cioè Da piccolo Cioè Sembro Bevo ancora il latte Io sono piccolino Però Ehm... Da più piccolo Quando ho iniziato questo lavoro E quando ho iniziato a fare delle interviste Mi interfacciavo con Con un pubblico che non conoscevo Era una cosa che mi faceva sentire di merda E dicevo cazzo Perché non è una cosa che puoi cambiare Capito? Certo Cioè non è tipo Fai una battuta brutta Dici la prossima volta non la fai più No È una cosa che è tua È come se ti dicono Cazzo È una faccia Di merda Mi è successo Mi è successo E la tua Ci rimani male E quindi all'inizio ci sono malissimo E quindi all'inizio ci sono malissimo Poi mi dissero Guarda che Guarda in giro E mi sono accorto di tantissime persone Che avevano una voce strana E... Ed è... Ci hanno fatto la loro carriera Su quella roba lì Quindi ho detto Metti che non ho talenti Ho l'unica... L'unica cosa che so fare È la voce nasale E parlare così Forte Hai già qualcosa almeno Ho già tutto Sì sì Mario Giordano In realtà No ecco Diciamo la tua voce Magari non sarà la più soave Ma almeno rientra nell'udibile A differenza di quella di Mario Giordano Che ci segue sempre Anche lui lo salutiamo insieme Sono lui E chi era l'altro E Wad E Wad Sono sempre nel team Insieme Sì fanno questi coca pari Parti a Milano Se vogliamo dire Non so se si può dire Ma non credo Anche perché denuncerà te In questo caso Mario Giordano Secondo me Non ho prove Però Se me li devo immaginare Ok ok E loro due Ci sono io sul megaschermo Le mie live Angelo Greco Il famosissimo Angelo Greco Dice che se tu dici Secondo me Non è... Non è reato Non è denunciato Non è denunciato Questa è la legge Perfetto Secondo me Ok siamo... Allora Secondo me Hai ragione Ok In realtà Secondo me Dato che io canto Non credo tu lo sappi Ma io canto in un coro Insomma faccio Con la voce Ho visto delle storie Sì Oh no Si canto in un coro E quindi in realtà Con la voce Si possono fare Tante cose Cioè Non Volendo Magari non puoi Completamente rimuoverlo Però Puoi imparare a controllarla Di più Cercare di regolarla Cercare di avere una voce No no Ma mi piace così Mi piace sbagliata Perché Avrò qualche problema Nasale E poco Magari è meno comune Meno Però sti cazzi No no Anche perché Ho capito che mi stanno Sul cazzo Quelli lì Che Tipo i classici Che fanno radio Che parlano Tutti così Attenzione E non Cioè Mi sa di una roba Così finta Che non riesco Dopo un po' Dico ma mi sta piando Per il culo In realtà poi Quelli lì Hanno la deformazione Professionale Che parlano Proprio così Nella vita reale Allora Se mi dai Un piccolo Panino Questo è un giornalista Che va a ordinare McDonald's No no Non come Wad Perché scrivono Come Wad No scherzo Wad è un amico No 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 Poveretto Però sì Io mi immagino sempre Mentana Che va a ordinare McDonald's Allora per me Un crispy Mac Bacon Con Le patatine E poi Hanno Loro Hanno Quest'inflessione Che è una cosa Che ti richiede Proprio Cioè Devono farlo Per forza A livello giornalistico Perché Parlando con un autore Di un telegiornale Mi disse che Se non hai Se non fai quella voce lì Non ti manda Noi no Non puoi fare servizi E infatti Ho pensato Perché noi non ce ne ha Cioè Ci sembra normale No Però Se la usi Nei contesti sbagliati Te ne accorgi E se un giornalista Non la usa Sembra che non ti stia Dando una notizia Hai bisogno Che ti venga consegnata Così Mi spiegavano Che proprio Per far sì Che Non cali mai La Cioè Perché sembra Che tu non finisci Mai la frase No E quindi Stai sempre lì A guardare Poi non so Se è vera Però Potrei cercare Per magari Tenere i viewers Per dieci ore Parlare così E non finisce mai Il pensiero Potrebbe essere Un po' pesante Ma Ci si può pensare È bannabile Penso Forse è bannabile Credo di sì Beh ormai Sulla piattaforma Diverse cose Sono Tranne le tipe nude Che si dipingono Ho scoperto ieri Tu sei Tu frequenti Twitch Cosa So che conosci Paolo Cannini Ah frequenti tipe nudi Tipe nude Ma A un certo punto Spero che lo diventino Ah No Non Sì Non ho capito la domanda Quindi faccio finta Di andare avanti E Sì Io Non frequento tanto Twitch Devo dirlo L'ho scoperto Di più Grazie Ad amici Che mi hanno avvicinato Tipo Paolo Cannone Che Vorrebbe che io esordissi Sulla piattaforma Però non 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 ce la faccio Qualche volta Guardo delle dirette Di Omi Tue L'altra volta Ti ho visto che eri a guardare Un ragazzo Che montava Una Una casa Nel Nel bosco Ah proprio La creme Della creme Ti sei beccato Ci tocca Importante E No in realtà Era molto rilassante E poi Guardo qualche volta Il cerbero Il cerbero Classico Il cerbero E basta Non mi capita tantissimo Di guardare Ho amici Che cazzeggiano Così Ma non hanno Non hanno Viewers Viewers E Paolo Come ne Perché io con Paolo La mia carriera di Twitch Nasce da Paolo Perché io ero un suo moderatore Allora Paolo L'ho conosciuto Perché È l'unica persona Di Catanzaro Che io conosca Nel mondo Nel nostro mondo E io sono di Catanzaro Un giorno Forse 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 Sai che proprio tu Non mi ricordo chi O qualcuno Mi disse Guarda Ah sei di Forse Omi Ah sei di Catanzaro Come Paolo Cannone Ho detto Come di Catanzaro Non sapevo minimamente Un giorno Mi rispose ad una storia Eravamo tutti e due A Catanzaro Abbiamo fatto amicizia Ho scoperto che È un È un ragazzo incredibile È un pazzo Un genio Su alcune cose Secondo me E vivevamo Nella stessa via A Milano Ah proprio? Ok A Milano Ah Milano Sì Lui si è trasferito poi Quindi Io abitavo nella stessa via Dove lui abitava Anni prima E ho scoperto Che avevamo tantissime cose In comune Tra cui Questa depressione Milanese Quando arrivi a Milano C'è questa depressione enorme Perché ti senti Un coglione Che naviga In un mare di merda E Potrebbe essere Il nuovo Milano Dove puoi Dove puoi sentirti Un coglione Che naviga In un mare di merda Il comune di Milano Contattate Gabriele Perché ha degli ottimi slogan Per vendere la vostra città Saranno Saranno No no A parte gli scherzi È una città Che ti dà Delle possibilità Enormi Che non ti dà Nessun'altra possibilità In Italia Però Ti senti solo Nel senso che Le persone che hai vicino Sono persone che ti stanno vicino Soltanto per quello Per i numeri Per quello che sei Per quello che potresti essere Quando hai bisogno di aiuto Nessuno Ero un bambino Perché ero Un diciottenne Con la voce di merda Che arriva da Catanzaro Quindi Anche se è capoluogo È una piccola provincia Io lo chiamo E ti ritrovi in questo mondo Fatto di falsi Anche chi lavora dietro Soprattutto chi lavora dietro Che sono delle persone adulte Sono Sono delle persone Più che falsi Sono opportunisti Secondo me Opportunisti Esatto Che però poi Per esempio Il lockdown Nonostante siano passati due anni Infatti Io parlo come se fossero passati 50 anni Ma Però due anni Sia alla tua età Sia nella curva della tua crescita Secondo me sono Veramente Magari non 50 Ma sono tipo 5 anni Cioè Sono un sacco di tempo È vero È vero Io me ne sono reso conto Infatti Non so se tu guardavi Abbiamo parlato Quando ho fatto Una chiacchierata Con il Cerbero In live E loro Mi avevano Anzi Flame Mi aveva fatto una reaction Dove mi Dove Insomma Mi perculava Ai tempi Sulla prima interrogazione Non so se Ricordi Che era questo format Che io facevo E poi mi disse Cavolo Io ti ho visto proprio Cambiato Ma me lo dicono In tanti Poi Io non Mi sento Mi sento cambiato Ma perché Come dici tu No cazzo A 18 anni Devi ancora finire Di sviluppare Come Dicendo Come Dicono I miei parenti E quindi E quindi Cambi da Io mi sento cambiare Da un giorno all'altro Anche perché Ogni giorno impari Delle cose nuove A quest'età Soprattutto Ci sta Ci sta che Due anni fa Facessi Schifo Ad alcune persone Oggi Non più Quindi È una cosa Che ho Razionalizzato Proprio su questo Volevo Diciamo Inquisirti Nel senso che Io quando guardo I tuoi video Non ti mentirò Quelli delle interrogazioni Ne ho visti Dei pezzetti Così Li trovavo Ok Ma Non è che mi facessero Impazzire Però invece Da quando hai iniziato a fare Se ho capito bene Tu hai un po' avuto Poi ti chiederò direttamente A te la tua storia Ma Hai avuto tre fasi Le interrogazioni Poi video Di transizione Generici Cose Adesso c'è il format Del lavoro 24 ore in Che mi sono appena inventato Il nome Non è questo Ma comunque Giorno di prova Giorno di prova Ma secondo me 24 ore in Era più forte Imprenditore.it Dice Personal branding Quindi per favore Di Giorno di prova Un giorno di prova Che Il corso che ho comprato Se no Non è Da chi Da Big Luca Da chi l'hai preso Come È un tuo amico Anche lui Io Guarda che io Sono cresciuto Grazie a Big Luca Senza di lui Non sarei ciò Che sono oggi Quindi Grazie Big Luca Grazie Big Luca È vivo Non so perché Ho baciato in alto E Quindi Ho visto un po' di video Così ho detto Ah ma vincia Fa robe interessanti E quando l'ho guardato In live Non ti mentirò Ma anche oggi Che ho detto Che saresti venuto C'era A parte che te l'ho già detto Ma C'era Sempre un po' di gente Ah cringe Il tiktoker Il tiktoker Il tiktoker Allora E poi E poi rincarano Dato che poi Le argomentazioni Non ci sono Dicono Eh ma c'è una voce di merda Questa È la critica completa Secondo me invece Quando ho scoperto Che avevi l'età Che hai Che se non sbaglio È tipo 21 O 20 21 21 Ho detto Minchia Questo a 21 anni È veramente sveglio Cioè È veramente uno Sveglio Cazzo E quindi in realtà Non so neanche come ci siamo Forse ti ho risposto Non so Non mi ricordo Però Ho detto Prima o poi lo chiamerò Quando i tempi saranno più maturi Che ho visto che la chat Si era un po' calmata E ogni volta che guardavo un tuo video Di nuovo Mi faceva la fia Sembra che ti dovessi succhiare il cazzo Non so Ho detto Fidatevi Secondo me è uno bravo È uno bravo Vi dico Cazzo E quindi alla fine sei qua per questo Ma Guarda Io Dico sempre che Il web Per me C'è un'altra ancora Storia Prima dell'interrogazione Io Ho iniziato a fare video Da Da Instagram Facevo i video su Instagram Insieme ad altri Ragazzi E Non in collettivo È proprio Facciamo queste collaborazioni Quindi tutto il mondo scuola Facevo ironia su quella roba lì Ma avevo 15 anni Sono partito da lì Poi ho fatto questa transizione a YouTube Poi TikTok mi andava Mi andava bene Sono Sono nato io da TikTok Io non rinnego mai nulla Anche se È una piattaforma Molto satura E che Ha 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 spurgato Ha tirato fuori Tanta merda Però Dico anche che La merda è sempre Lo specchio di quello che Il pubblico guarda Certo E quindi Se esiste Tipo Le case dei TikTok Perché è una cosa che Anche se io Lavoro su TikTok Quindi sarei un coglione A dire No TikTok mi fa schifo Però È una cosa che io Non capisco Non concepisco Ma proprio Chi cazzo le segue Queste case Mi chiede Sono una cassa di risonanza Del nulla A mio modesto parere Il caricatore del computer Scusa E quindi Niente Adesso Oltre che mi hanno hackerato TikTok ieri Tra l'altro Ed è sparito il mio Il mio profilo Vabbè A parte questa cosa YouTube È la piattaforma Che mi sta Piacendo di più Perché ha tirato fuori Mi dà la possibilità Di tirar fuori Quello che voglio fare Una delle cose Che voglio fare Ed è una Io la vedo come una palestra gigante Cioè Non mi sento Di dire Cazzo Vedo qualcuno Sento qualcuno Dire Io faccio dei video Belli Io faccio dei video Incredibili Cioè Per me YouTube È una palestra Cioè Ma per tutti No lo è Io penso che Soprattutto Come dici tu Per l'età che ho io Che hanno tanti altri Che reputo bravi A fare quello che fanno È una palestra È un modo di Di imparare delle cose O Io per esempio Dopo l'interrogazione Ho iniziato a lavorare Con Un autore incredibile Che mi ha dato tantissimo Che si chiama Umberto Alezzio Ed è L'autore di 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 È l'autore ancora oggi Ma è stato storico Di Enrico Lucci E di tanti altri Che facevano quel tipo Di Forse anche Piff Piff Ha fatto Nemo Ha fatto Reality Ha fatto tantissimi Ha lavorato Vent'anni Alle Iene E lui Mi ha Mi ha dato Un sacco di nozioni Mi ha insegnato Delle cose Anche Troppo televisive Infatti Social Network Penso che Ah sì sì Mi ricordo E strizzava un po' L'occhio Un po' troppo Secondo me Ad oggi A rivederlo Alla tv E E Quindi Quello che ho provato A fare con Poi Lui dopo È un professionista Quindi Non Non potevo Tenerlo impegnato Per i miei video Tutti Tutti i giorni E quindi Dopo che abbiamo fatto Quella roba là Poi Abbiamo continuato A scriverci Però non Non lavoriamo più In genere Sui progetti E Questo giorno di prova È una cosa Che ho voluto fare io Da solo No Per provare Ho detto Cazzo Posso Ce la posso fare Sai quando dici Cazzo Posso riuscirci A farla da sola Questa cosa qui E Quindi Nulla Sul punto dell'autore C'è forse la seconda Critica Che ti Che vedo Posso bere Nel frattempo Io non bevo la birra Solo se è urina È urina Non bevo la birra Ma ho un amico Che mi sta costringendo Giusto Giusto Prego 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 Io berro dell'acqua Invece Per dare un buon esempio Ai giovani Come i veri stand up comedian Sai che i stand up comedian O i bolognesi Sono due categorie Che bevono la birra Però sono gli unici Cioè tutti i bar del mondo O entra un bolognese O entra uno stand up comedian E di solito Sono la stessa persona Sono la stessa persona Di solito Chi fa stand up E anche Bolognese E viceversa Luis CK Infatti è nato Non so se conosci bene Però c'è i portici Al fondo dei portici Lì è nato Luis CK Esatto Comunque queste sono cose Che non interessano al pubblico Ehm Dicevo Una delle critiche Critico Una delle robe che ti viene detta di più E' un po' Ah La copia di Luci Il Luci Di Wish Beh Innanzitutto fatemi dire che Luci E Minchia nell'Olimp Cioè Luci E' Luci Luci Non si può Non si può Ma sai Le cose Io ho capito una cosa Che Ehm Comunque a me fa piacere che Mi dicano Cazzo Mi ricordi questa cosa qua Anche perché E' un dio E' come essere paragonati A Gesù Come Per esempio Una volta ti dissi A me ricordi molto L'ironia Parenziana Io amo la La zanzara Però è una cosa Cioè Non è uno Sì 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 Da penso No No Certo che no Cazzo E' un giornalista che Da 40 anni che fa il suo lavoro Cazzo No ma infatti Nel tuo caso Ovviamente si vedeva Ehm Secondo me c'è stato un plasmaggio Da parte Dell'autore che Che dicevi Che ovviamente Se lui ha quell'idea Di Di Prodotto E' difficile Prendere Una nuova persona E fare una cosa Completamente diversa Quindi un po' Secondo me tu eri Ma sto tirando a caso Quindi dimmi se dico Cazzate Tu eri Giovane Lui Credo E' lui che ha contattato te O tu che hai contattato lui Ci siamo trovati Per caso Ad un Lui entrava in un posto Io uscivo Ehm E ci siamo conosciuti Perché Ehm Le persone Una persona che lavorava con me Lo conosceva L'ha salutato Ha detto Io non lo conoscevo in faccia Ma sapevo Chi fosse Perché Ero Un Un estimatore di Lucci E delle Iene in generale L'ha salutato E Ho detto Cazzo Ma è lui Poi Questa persona Gli ha mandato L'interrogazione Io volevo fare Un'interrogazione In giro Cioè La mia idea all'inizio era Voglio fare l'interrogazione Ma On the road Perché mi era rotto il cazzo Di stare in studio A A Organizzare cose in studio Anche perché era appena finita La quarantena Lui è piaciuta Questa cosa E Mi ha detto Vediamoci Facciamo una roba Mai fatto cose sul web Lui Facciamo una cosa sul web Perché mi interessa il web Nonostante Un piccolo problema di connessione Mi senti? Eccoci Eccoci Scusami Nonostante Sai Il Cazzo Il mondo degli autori televisivi È un mondo Molto chiuso Eh infatti Che odiano lì Cioè Secondo me Odiano Odiano l'interrogazione E quella nuova cosa No col cazzo Perché noi lo sappiamo fare bene E loro no Bravo Bravo È quella la roba C'è snobbismo No? Ci vedono come La serie C del calcio E quindi Quando lui si è messo a disposizione Io ho detto Cazzo È un È un'opportunità gigante Mi ha insegnato davvero Delle cose Pazzesche E Ma infatti Secondo me Nella tua crescita Si vede Una mano Esperta Poi è ovvio che È una cosa Secondo me Molto artigianale Quindi è ovvio che Se tu lavori Nella sua bottega Ipotetica No? Di creatività Si È ovvio che ne uscirai All'inizio Molto simile A cose che hai già fatto prima Però la cosa che a me è piaciuta Particolarmente Della terza cosa Che stai facendo adesso Quindi Un giorno In Pretura No Un giorno in pretura È una Puoi Puoi continuare Questa gag All'infinito Puoi dire Quanti non mi vuoi Tanto ormai Tanto ormai Il brand awareness È andato a fanculo Big Luca Mi fa un culo così Eh lo so Perché è severo È severo Anche a me cazzi E No e quindi Lì Ho visto che ti sta Ti sei tolto Ti sei proprio Ammorbito Non so come dire Sei diventato Vabbè Poi sembra che c'hai due anni Però Sei proprio cresciuto Cioè Assumi una tua forma Hai preso Delle cose Secondo me Preziosissime È che per un creator Poter lavorare con un autore Di quel tipo È veramente Un'opportunità Straordinaria E sei stato bravo tu A poterle utilizzare Le cose che E sapere utilizzare Le cose che hai imparato Però Ti stai iniziando a creare Una cosa tua Una tua nuova dimensione E staccarti Da quella che può essere Una linea Full Luciana Che comunque Appunto Luci è solo Luci Quindi era inutile Cercare di stare lì Ti dico Allora Non per Diciamo Fare una sega Ad Umberto Che mi ha Perché Ci ho lavorato insieme Ma Se tu provi a guardare Un servizio Del 2000 Fino al 2005 Di Luci E poi provi a guardare Qualcosa dopo Noti una differenza Abissale E questo lo dico Perché a volte No Da spettatori Perché io nasco Come spettatore No Di tutto Cioè Come Le nostre generazioni Sono Io Ho Idoli Che poi Idoli Tra virgolette Che poi incontro Persone che stimo molto Che poi Mi trovo davanti E dico Cazzo È un'opportunità enorme Con lui è stato così E Cioè Umberto è l'autore E Enrico è Luci State attenti Merde Umberto Aleggio Enrico Luci E se tu provi a fare Questo test Provi a guardare Una cosa vecchia di Luci Una cosa nuova Vedi proprio Una modalità Di racconto Diversa La perculata È sempre Luci Quello è suo Ma La modalità di racconto Delle domande Che fanno Raccontano Un mondo Di Arrivisti Poi Di Di Personi che vorrebbero Essere Ma non sono Incredibile Lui riesce a far uscire Questa cosa Ho capito di lui Che lui riesce a far uscire Il peggio delle persone Perché ha questa cosa Anche Tutti quei servizi Vengono presi per il culo Mi fa Io avevo questa cosa Perché volevo fare L'interrogazione Però lui Mi diceva Non devi Devi fargli Delle domande Di cui tu già Conosci la risposta Perché loro Si sentono Devono risponderti E loro Conoscono La verità E quando ti rispondono Esce fuori Poi quel racconto Lì Ed è Ed è pazzesco Comunque dicevo Che lui Ha davvero Anche mutato Quello che Il lucci Che conosciamo Per esempio Anche se guardi Lucci alle Iene E lucci a Nemo Sono due cose Diverse Cosa che io Prima Non notavo Perché Dicevo che Certo Bisogna anche guardare Quel tipo di cose Spesso noi guardiamo Le cose Ma non è che Stiamo là Ad analizzare Quindi le persone Che lavorano dietro Anche gli autori Dei cantanti Tutto il mondo Dell'autorato Sono delle persone Cazzo Cioè Molte volte Fanno di più Della persona Che è davanti Non è il caso Di lucci Però Molte volte Fanno tantissimo Ti faccio proprio Questa domanda Per te Beh Intanto Sono lieto Di sapere Che ora Sei Cioè Sei con Le gambe tue Ora sono single Ora sei single Esatto Però prima Quanto era Cioè proprio La scrittura Magari Delle cose Delle frasi Quanto è improvvisato Quanto ti lascia andare tu E tu in generale Per le cose che fai adesso Quanto ti scrivi prima E tutto questo Nel contesto di Ma Che cazzo di connessione hai C'è una connessione brutta Sì sì Ti vedo la gare Da un Cinque sei minuti Ma perché Sono Rimango Puoi cacciare Un calabrese Alla calabria Ma non La calabria Alla calabrese Quindi anche a milano E' nella calabria Che rende la connessione così Perfetto Anche a milano Io ho la connessione calabrese Mi attacco al server Di gioia tauro E beh Che è così distante Poi inevitabilmente Lagga così Sei dal telefono O dal computer Dal telefono Prova ad entrare dal computer Prova ad entrare dal computer Attaccato alla batteriola E all'ethernet Ma secondo me Tu hai un macbook E quindi non avrai L'adattatore Quindi non hai l'ethernet Però speriamo funzioni Vado Aspetta Vai Eccoci Dal 1970 Vi presento Ecco Mi senti? Sì sì Ti sento abbastanza Ti sento abbastanza Scusami ma Questa Puoi zoomarmi indietro Per favore Sì cercherò Aspetta E' presente quel trend Di tiktok Che fanno quei ragazzi Bei ragazzi Che di solito Rimorchiano tanto Le ragazze Si mettono la Che no Che c'è lo zoom in avanti Tu so che sei pratico Ah vedi Vedi così siamo a posto Ma devo dire che Questo È un macbook Avevo ragione Sì è un macbook Ecco pensate spendere Io sono un grande fan Apple Quindi flammo Per dire Pensate spendere 3000 euro Per avere una telecamera Degli anni 70 Vabbè C'è la mia fidanzata Che dice che sto dicendo Troppe parolacce Quindi la smetto No 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 Non stai dicendo Troppe parolacce Stai dicendo solo una Cazzo Tantissime volte Però A me non interessa Ma lasciate Ah perché Ah puoi far capire Figa Dovresti usare figa E allora Ma ci sono due Tendenze a Milano Magari Stai preparando Il terreno Per un eventuale Coming out E infatti La tua ragazza Se ne accorge Dice No 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 Esatto Basta dire queste parole Ma è normale Che sia così zoomato Non so Non mi ricordo Di che cazzo Ti avevo fatto Una domanda bella Ma è andata via Allora Stavamo parlando Prima che fossi così zoomato Eh Stavamo parlando Di Di Ah no Quanto Ecco Come funziona Il tuo lavoro autoriale Quindi quanto prima Hai collaborato Proprio nella scrittura Così E quanto oggi Sei uno da Ok mi viene in mente una cosa La scrivo tutta di getto O sei più un artigiano Che si mette lì Popopopopopopopopo E man mano Tutti i giorni Fa un po' Ma allora Io prima ero tanto vincolato Nelle battute Scritte Quando facevo l'interrogazione Era solo battuta scritta Anche perché Quel format lì Prendeva ispirazione Da Between Two Friends Che è un format americano Che se non l'avete visto Guardatelo perché è veramente sublime Pazzesco Di Zach Galafianakis Che un po' ti somiglia anche Che è quello che ha fatto una notte da leoni Per dirla proprio spicciola E Lì ero vincolato tanto Nelle battute Poi dopo anche grazie ad Umberto Che in realtà Lui non mi scriveva nulla Mi dava soltanto l'impostazione Infatti io dico sempre È come se avessi pagato un corso di Big Luca Con lui perché mi ha Mi ha aiutato Sì Lanciato Anche proprio Ok A imparare a fare il mestiere Esatto E quindi Insomma Poi da lì Non ho più scritto nulla Anche perché Un po' Un po' Scrivo però Magari le domande Basilari Sai Tipo Il video che è uscito oggi Ci infilo la di Big Anche L'abbiamo già visto Cazzo Non so Possono andare a vedere No ma io gli dico sempre Di andare a mettere i likes I likes Almeno Grazie Noi poveri di YouTube Eh tu come la pensi su questo Ah no scusami Finisce la cosa che volevi dire sul video ma Eh niente Quindi vado a braccio Tipo me li scrivo la mattina Mentre sto andando a girare Anche perché poi È sempre Più o meno le domande Sono Ricalcano sempre la stessa cosa E poi vai Poi è situazionale Go with the flow Esatto Esatto Anche perché se ti vincoli troppo Vedo tanti che si chiudono tanto in un format Cosa che facevo anch'io E poi non riescono più ad uscirne no? Perché magari hai delle situazioni incredibili Ma dici no 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 Non giriamo quella perché Devo girare la cosa che ho già pensato Quindi ti bruci delle cose Poi in generale secondo me Una delle Mi sono spesso interrogato su che cosa cambia Tra la tv e Twitch È ovvio che ci sono tantissime cose che cambiano Però Una delle cose che viene un po' meno considerata O meglio Che viene considerata come un malus di Twitch Ma secondo me invece è la cosa che rende Twitch forte È il fatto che è meno formale Cioè Ci sono tantissimi che hanno lavorato per farsi lo studio magari Il mega setup Alla gente piace la merda Alla roba a casa e reccia Alla roba che Il bello di Twitch è che succede lì E invece la cosa impostata ha rotto i coglioni È vero è vero Concordo assolutamente perché Per esempio Lo vedo anche tanto Io su Instagram Sono nato Come ti dicevo Da tutto il mondo scuola Perché facevo I romani Facevo dei meme orribili Su quella roba là E facevo Pubblicavo tantissime Magari foto fatte in un modo incredibile Come le editavo Adesso mi sono Anche perché mi sono rotto le palle Esatto E pure più comodo E quindi Il grezzo Il naturale No il grezzo Perché poi c'è una cosa brutta È brutta Sia da grezzo Che da Deve essere secondo me fruibile Ma non impostata Cioè Per dirti L'esempio del cazzo Se uno c'ha un microfono Minchia che Quando parla Ti sente così Certo che Va bene Però non c'è bisogno di farsi tutta la cosa Sì poi se vuoi metterti a luce Che ti fa carino Guarda Il porno Perché tu sei un fruitore Eh no Il porno Mi è successo sì Qual è la categoria Più amata L'amateur Ovviamente Ovviamente Bravo Un bel esempio Perché è real No? È reale Dico dei termini in inglese Perché noi milanesi Lo sai È giusto Of course my friend Of course Eh Però sì è vero È vero Questa cosa qua Infatti tipo Anche per le interviste Che io faccio ogni tanto così Mi segno le domande Perché voglio avere magari Dei topic Che non voglio perdermi E Soprattutto serve se Dalla Tipo con te Non c'è nessuno Perché tu già ne hai mangiate cinque E io te ne ho fatte due Ma Tu da solo Finisci negli argomenti Mi stai facendo troppi complimenti Alla fine Sicuro C'è qualcosa tipo Io Che Una tua foto nudo Non editata Io che vado con Le signorine Ecco Non mi fare dire parolacci Io che vado Con delle signorine a pagamento Un servizio fotografico Beh siamo andati insieme Ma non ho fatto foto Anche se Non è una cosa Brutta No Anzi Anzi Senza anzi Io volevo il tuo supporto lì Volevo vedere se Certo che non è una cosa brutta È una cosa Niente Ecco vedi tipo adesso Serve avere la domanda scritta Perché così Subito Ti dico un aneddoto Su sta cosa qua Io È dell'ironia No? Era uno sketch Questo Non so se l'avete capito E a volte Faccio queste Questi Io a Milano Faccio Anzi Nella Calabria Già Faccio Le battute Le battute sulla Cocaina Ok Cioè dico Vabbè ragazzi Quando non si sa che cosa fare Dico vabbè ragazzi Ci facciamo una botta O una battuta Anche perché Si vede Cioè non lo so se non si vede Pensi io sia un usufruitore Non lo sono Se Se Tutto lo so È una self Ok Non lo so Non lo so E a Milano Ti stai infilando in un gireparo pericoloso eh No perché l'ho raccontato prima A Milano una volta Ho fatto questa battuta Un ragazzo mi guarda e mi fa Un ragazzo Un ragazzo Mi guarda e mi fa Davvero? E io faccio No è una cosa Una cosa che dico io per scherzare No Ah sì Scherzare Da quel giorno Non faccio più battute Sulla 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 cocaina Perché Però quelle sulla prostituzione Vedo che le hai mantenute Bravo Ma sì È come Si scherza tra amici Insomma Tra amici di vecchia data Ma no Ma è giusto Anch'io a volte Faccio delle battute Anche non in live Molto Così Però secondo me A quel punto Conviene Veramente lanciare Cioè farla gravissima Di modo che uno pensi Oh ma è impossibile Però certo che se uno dice Oh ma che Perché se fai così Secondo me qualcuno Che ti dice Sì Lo trovo Cioè Perché a Milano Obiettivamente E infatti da quel giorno Non faccio più Pre-covid Era questa situazione Solo più eroina Cioè la pipettina Fai la tua gag Perfetto La portarti dietro Un amico Che porto Che porto In tutte le piazze d'Italia È letteralmente Tu che fumi Crack E basta Zitto Esatto È uno spettacolo Introspettivo E Parlando di piazze Vai Vai Ecco No parlando di piazze Piazzare l'Oretto No Scusami Parlando di piazze Altre So che sei stato A contatto Con un importantissimo Capo di stato Di recente Fa ridere Perché veniamo Da un discorso Orribile Eh no Ma rimaniamo infatti Il Che lo salutiamo Anche Del Vaticano Che ci seguono Ma so che il Santo Padre Insieme a Giordano Tutti Fratello Fa prendere birra No comunque Dicevo No per dire Il Santo Padre Hai incontrato Il Santo Padre Cioè hai fatto Sta cosa Per la giornata Mondiale Dei giovani Tu sei cattolico Allora Non mi fai domande A quale non puoi rispondere Open mi ha fatto Questa domanda E io Si è stato intervistato Da Open Open mi ha fatto Un'intervista Giustamente I giornalisti Di Open Non gliene fregano Nulla Che io vado Lì Vogliono Il click Sì Vogliono robe Dure No Davvero giornalista Di mentale Alla mentana E quindi A un certo punto Dell'intervista Dopo un'ora Mi fa Mi dice Ma tu Che vai Dal Papa Sei cattolico Praticante Praticante Il bastardo Che ho fatto Un giro enorme Ho fatto un giro enorme Per non rispondere Alla domanda E Alla fine Lui ha Chiamato L'articolo Vagnato Due punti Questo Papa È sfacciato Il giorno prima Di fare la cosa Io ho detto Bastardi Ora Chiamo il Vaticano Dice Vaffanculo Vagnato Sai che c'è Che bastardi Comunque Vabbè Poi mi hanno detto Che i titoli Li fa Proprio un reparto C'è il titolist Ci sono i titolisti Che sono Secondo me Sono fatti Non quelli di Open In particolare Però diciamo Vivono nelle fogne No Perché hanno La straordinaria Capacità Di veramente Dire delle cose Che ti fanno girare Il cazzo E di cui poi L'articolo Mediamente Non parla E Proprio con Io ho intervistato La vice direttrice Di Open Su questo Proprio seduta Sulla tua sedia Cioè non Sulla tua sedia Virtualmente No Perché praticamente Il quadrato Dove sei tu Non è che Tipo fisico Capito Ah ok Ci vanno Tanto Esatto Vabbè Poi ti mando Una foto Però l'idea È che lì Dove ci sei adesso tu C'era La vice Direttrice E io glielo ho detto Io ho detto Bro Stai facendo Minchia Ma come cazzo Ho fatto a fare Alcuni articoli Sono veramente grevi Mi ricordo uno Non mi ricordo di niente Ma mi ricordo questo dettaglio Diceva Ah sì Della professoressa Che aveva mandato Che aveva fatto All'amore Con Non so se ti ricordi Quella vicenda E tutti Poi parlavano Dicevano Ah ma perché di lei Anche se non ci sono ancora prove Non è ancora certo Avete sputtanato Il nome Il cognome Dove cazzo vive Il codice fiscale Cosa fa Blablabla E dell'altro Non si dice niente E questa cosa è ingiusta E anche Open ha parlato Nel titolo C'era il nome Il cognome Della tipa Nell'articolo In cui diceva Che non era giusto Dire il nome Il cognome Della tipa Poi è stato cambiato Questo tipo Perché quando io l'ho visto Io sguardo Mentana su facebook Lui li pubblica subito L'ho preso L'ho salvato Quando l'ho aperto in live Il titolo era diverso Era stato cambiato Allora io ho detto Anche parlacciate Oh raga Non vi sto pigliando per il culo Fortunatamente Quando cambi Cioè se utilizzi un cms Comunque Il sito web Quando pubblichi l'articolo L'url rimane il titolo vecchio Ed era ancora quello vecchio Quindi sono veramente Comunque Bravo Sei riuscito a dissogliermi Dal tema del papa No Comunque Dai No Senza fare il paraculo Non sono Cattolico praticante Insomma Sono cresciuto In una Mia madre Molto cattolica Venendo dalla Calabria C'è questo stereotipo Che è assolutamente vero Però Ci siamo sempre Soprattutto Quando arrivi Tipo a 17 18 anni Inizia ad avere Un momento In cui Dici Cazzo Ma sono cazzate Lo vediamo tutti Che sono cazzate Però poi Ho avuto E quindi ci scontravamo Tantissimo Su questa cosa Poi ho avuto Un altro passaggio Dove ho capito Che chi si affida Alla fede E perché Non ha Nient'altro A cui affidarsi E quindi È una sorta di Sono Posso dire Che sono dei mental coach Cioè Sono Delle persone Che ti danno Qualcosa A cui affidarti Ti danno Una mano d'aiuto Non lo so Poi tutto il resto C'è tanta roba Sì sì Chiaro Chiaro Beh Io Personalmente Adesso Lo sappiamo C'è questo mio amico Francesco Che è a capo Di questa Di questa Associazione Della chiesa Che fa Ma piccole cose E quindi Da contratto Non posso parlarne male Insomma Poi siamo amici No spiace Che poi vai a cena Una cosa Si lamenta E anche se Da lui mi pare Si mangi veramente poco Ti dà sto coso Tondo Ma comunque Sì è tipo un pane Però non lievitato Azzimo Ma questo gesto Lui di solito Che spezza il pane E si ubriacano Oh da bere Infatti da bere È buono però Il vino Non manca mai No in realtà Perché io diciamo Con il Vaticano Non ho delle posizioni Proprio simpaticissime Si potrebbe dire Che sono un po' Come Galileo Quindi Quello è circa Il rapporto Però in realtà Pensa che io ho cantato Quando il Papa È venuto a Torino Ho cantato Col mio coro Praticamente di fianco Al Papa Avevo una maglia Con su scritto Giordano Bruno Uno di noi Però Sotto la camicia Che poi si vedeva Quando ho finito il concerto L'ho tolto E si vedeva Vabbè Però in realtà Verità per Giulio Reggeni avevi No Sì una roba del genere Però molto prima Molto prima Tu sei uno di quelli Che ha la maglietta Con scritto Verità per Giulio Reggeni No io ho soltanto Magliette scure E non si vede Quello che c'è scritto Tipo su questa qua C'è scritto Mi piace la figa Però ovviamente È in nero Un bel passaggio sociale Anche quello che andrebbe rilanciato Sì sì Perché diciamo La figa è rimasta bella Nonostante Gli ultimi sviluppi E Qualunque cosa Questa voglia dire Andiamo avanti Comunque Giusto per chiudere Questa cosa qua A parte tutto Può essere Anche Andrea Per esempio Che comunque Andrea De Logu Che ha condotto Io ho co-condotto Lei era la conduttore Che brava Lei è divorziata Per esempio E Forse Qualche anno fa La cosa che mi è piaciuta In questa cosa È che hanno chiamato Anche Blanco Per esempio Che è una persona Comunque Nei testi Dice Il tanga Te lo strapperei via Quindi L'immagine che ho È il papa Che ascolta Blanco Che dice Il tanga Te lo strapperei via È già Un bacio E quindi Questo tipo di apertura Mi è piaciuto Cioè Ho detto Cavolo Che figata Poi Anche se erano Non lo so Persone che dicevano Ah no Chi se ne frega Andavo comunque Perché è un'opportunità Che non mi capiterà mai più Nella vita Quindi Però C'è molta apertura Per esempio Non mi hanno detto Tu non puoi dire Questa cosa qua Non me l'hanno Ero io che avevo Molta paura Di dire Per esempio Sono uscito con una frase Il giorno della mia comunione È stato un giorno Di vergogna In piazza San Pietro C'era l'autrice dietro Che faceva No 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 In realtà No in realtà Poi sono stati C'era La persona addetta Che organizzava Che è stata Cioè Dite quello che volete Fate quello che volete Naturalmente Siamo in una Delle piazze Più importanti Del mondo Certo No ma Ci sta Diciamo Io Ho le opinioni Che ho Per via del mio passato Io ho fatto Il catechista Non Cioè Il catechista Ho fatto L'oratorio Ho fatto Il chirichetto Insomma A parte Il grande vaticano Ci sono anche Le parrocchie E poi Che messaggio In realtà Passa Nel credo cattolico E secondo me Ci sono tante cose Che non vanno tanto bene Però In realtà Tipo che ne so I sacerdoti singoli Quelli Si spaccano il culo Fanno un sacco di cose belle Per la comunità Eccetera Poi ovviamente Ci sono quelli Non lo dirò esplicitamente Perché ci sei tu Però Che fanno L'amore con i bambini Meglio Se ci pensi È una cosa verissima Però Se ci pensi Ci sono Cioè Le mele marce Ci sono in tutti No Non mi tirare fuori La mele marcia No Però No Mele marce È inteso come È come la frase Tipo Ah i politici Sono tutti Un magna magna No C'è anche chi fa Bene il proprio lavoro No Poi certo La merda No ma Questo sono d'accordo Il problema Secondo me È strutturato Cioè Infatti su questo Francesco Ha fatto delle cose Però Non seguo il canale Tanto Di Francesco Lui proprio Sai che lui C'ha un canale Di Twitter C'ha Pontifex C'ha Twitch anche no? Ah si 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 È stato anche ospite Da me Fa le live In cameretta No La questione Poi vabbè Non voglio parlare di questo Ma dirò solo questo Per mia Precisazione Il tema delle mele marce È sicuramente vero Il problema È che Se l'associazione Di cui tu fai parte Non è Repentina Nel Prendere le mele marce E buttarle fuori Avere una mele marcia Nel Vaticano O in polizia Anche Che ne so Di tutti i casi Cioè Quelle sono cose gravi Perché il popolo Ti dà fiducia E come dicevi tu La fede È un argomento Importante I sacerdoti Guadagnano La fiducia Di chi gli parla In veste Del loro vestito Alla faccia dell'abito Non fa il monaco E quindi loro Non solo hanno Accesso ai minori Ma hanno anche Il dovere Di proteggerli E le mele marce Lì dentro Non sono le mele marce In qualunque altro cesto Voglio solo dire questo Sono d'accordo Sono d'accordo Con te Ma è Una forma di Secondo me Prima o poi Ci sarà una rivoluzione Anche Nel loro Cioè È un modo di pensare Molto vecchio Il loro Cioè Metto a tacere tutto Senza tirar fuori In modalità Movimento 5 stelle Sai tipo Il movimento 5 stelle Quando succede qualcosa La prima cosa Che fanno Subito Vaffanculo Vattene Via Fuori dalle palle Anche estremo Così è sbagliato No Però Il loro L'opposto Invece Fanno Ah no Mettiamo tutto a tacere Tanto non Sì Perché comunque Sono una extra potenza Secolare Quindi Però ovviamente Sapere che Il prete che fa le cose Poi viene solo spostato Adesso non dovrebbe più Essere così Però viene solo spostato Anziché essere Minchia Sirurato Istantaneamente Una volta che si hanno le prove Si è indagato Però Vabbè Comunque sti cazzi Non voglio parlare del Vaticano Però è uscito l'argomento Ti fa O qua ho delle domande interessanti Alcune prese dalla chat Se ti chiamassero a lavorare alle Iene Lo faresti? Allora Come Iena Non tipo nei bagni Può anche essere come Guarda c'è da pulire Lo studio No come Iena proprio Quello Andrei Quello Andrei Perché Mamma dice Mia madre mi manda spesso Dei link Per i concorsi pubblici Mi ha mandato uno Prima del Papa di più Mi ha mandato uno Per il comune di Vimercate Da Tipo dovevo inserire dei dati Cioè Come lavoro Inserivo dei dati Ah certo certo Quindi Se capita Faccio felice Perché lei ancora non ci crede Che possa essere una carriera questa Dopo il Papa ho preso un po' più di credibilità Minchia ci vuole al fottuto Papa Per riuscire No no però Sì Questa Lei non Non ci crede Perché anche lì È di un'altra generazione È la generazione Certo Ha sempre avuto un lavoro da dipendente Lei quindi Ma anche guarda Anche mio padre Dice la stessa cosa Dice Ah lì sull'internet Va bene Ma non smettere con l'università Mi raccomando Continua a lavorare in università Fai le ore Va bene E quindi Allora Le Iene è un programma Che per me È sempre stato Bellissimo Cioè Sono sempre stato innamorato Delle Iene E si vede anche Nell'ispirazione Poi ho lavorato Conosco tante Tante Iene Penso che negli ultimi anni Si siano un po' Sai Quando fai una cosa Per tanto tempo Poi inizia ad essere Come Non lo so Il Quello che fa un lavoro Solo perché lo deve fare Solo perché Lì non gliene frega più niente Anche per noi Che l'abbiamo visto Per tanti anni Cioè Secondo me è una cosa Che si incontrano Perde proprio un po' Lo smalto Rimane un po' Come quelle unghie Con un po' di smalto Che è andato sbreccato Sono sempre smaltate Però Poi penso che Abbiano Loro sofferto tanto Anche il fatto Che YouTube Sia rinato Cioè YouTube è rinato Ed è rinato un po' Ma tutto Tutto il mondo Anche per esempio Adesso Netflix Prime Video Vanno tutti verso Il documentario Verso Il mostrare qualcosa di reale Che era il potere Delle Iene Ti mostravano Succedeva una cosa Te la mostravano Raccontata Egregiamente Era quasi un monopolio Credo in Mediaset Almeno in Mediaset Adesso Per esempio Cattelan Con la serie Quella sulla felicità Tutti i documentari Di Prime Video Ne fanno tre milioni Tutti Mostrano quella roba lì E quindi Loro Che sono rimasti Una concezione Di quello Molto vecchia Secondo me Ne hanno un po' Sofferto E ti posso dire Che Cioè Ci sono Secondo me YouTube In questo momento È molto Più Più bella Più fruibile Più libera Di Delle Iene Nonostante Tutti Tutti Quelli che sono Secondo me In questo momento Sulla piattaforma Comunicano Con quel tipo Di linguaggio Che hanno inventato Loro in Italia Non c'è niente da dire Cioè I vari Ce n'è 300.000 C'è Ale della Giusta E Mallorum E Mallorum Non mi vengono più in mente 300.000 Lì vorrei sentire tutti Allora Ce n'è altri? Mi faccio aiutare Oh mia tol Oh mia tol Di me Però quando andava in giro Per esempio Le Irle Erano la versione Continua Di quella cosa lì Ancora meno Forse Contaminata No? Cioè Minchia Sì perché non c'è il montaggio Progetto 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 Happiness Certo Che mi suggerisce Ascani Marcello Il mitico Marcello No no è vero È vero Tanti Rose Che sei un suo fan Io so No? Scusami C'è stato un piccolo Dicevamo Dicevamo Sei suoi fan? No dose Lo ring No lo saluto Lo saluto Va preso Come altre cose A piccole Non mi fa litigare con le persone Piccole dosi Piccole dosi Una gag da 2 euro Schifosa Adesso già Dopo mi chiama papà Francesco C'è 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 Siamo calati in borsa E Big Luca Ti deve fare il culo Certo Certo Suri Suri Ovviamente Suri Suri Jacques Dalle Jacques Dalle Ti piace Jacques Dalle Non so come hai fatto a capire Che mi riferisci a lui Comunque Anch'io faccio questa gag Di Jacques Dalle Di Jacques Dalle Sì Veramente Jackie Dale Jackie Dale No a me piace il tono frangene Di Jacques Dalle Vabbè Quindi ci vai o non ci vai A ste cazzo di jene No No Non ci andrei Posso dire una cosa Vabbè L'ho detto già La mia fiancata di Fa così Lei è la persona Che mi contiene Perché io Cioè Io dico tanti retroscena Che poi non dovrei dire A volte Vabbè Tanto qua non ci guarda nessuno Mi hanno proposto Guarda quanto è umile Quell'enco di Bologna No questa è Falsa umiltà ovviamente In realtà Ah sì 3.000 viewers Prego No Dicevo Mi hanno proposto Un programma Non che mi hanno detto Vieni Ti prendiamo Mi hanno detto Vuoi proporre Un'idea Per questo programma Ah ok Prima dalle iene È un programma Il competitor Principale Il TG4 Tipo Ai tempi di Emilio Fede L'avrei fatto No mi hanno detto Vuoi proporre un'idea Ci ho pensato tanto Perché è un programma Cazzo Visto da chiunque Soprattutto persone Molto adulte Molto anziane Però poi ho detto Ma questa cosa Questa cosa qua Boh Non mi piace No Dato che io Ho cambiato Quando facevo L'interrogazione Quando facevo I meme Su Instagram E avevo un problema Che io Le cose che facevo Non mi piacevano Le facevo Perché facevano Tanti like Facevano tanti risolini Sapevi che funzionavano Una ricetta funzionante Bravo E quindi Facevo quelle cose là Quasi obbligato No Come se per raggiungere Quello che volevo Dovevo per forza Fare queste cose A un certo punto Ho detto Basta Ho detto Non me ne frega più Perché Sei un ragazzino Hai la droga Dei numeri Perché i numeri Sono una droga E quindi Volevo fare Sempre quei numeri Poi a un certo punto Ho detto Basta Ho cambiato Totalmente Quello che facevo Ovunque E adesso Anche se faccio Meno numeri Però Sono Cioè Per esempio Se un video Mi va male Se faccio 5000 views Però A me piace Quel video Dico Sti cazzi Un po' Ci rimane male Ovviamente Sì Questo è un passo Molto maturo Non è per niente Anch'io ci sono passato Nella mia brevissima carriera Perché in realtà Poi sono due anni Che sono qua Però Ho capito Che ci sono cose Di cui Andrò fiero Tra dieci anni E cose Di cui Vado fiero Magari per il risultato Istantaneo E la cosa assurda È che di solito Le cose di cui Vado fiero Per dieci anni Fanno meno viewers Cioè È così È una formula strana Tipo che ne so La programmazione Poi insegno a programmare In live No È ovvio che Lì sul momento Guardano in di meno Così Però poi la metto su youtube Mi arriva qualcuno Ah che bello Ho imparato a programmare Grazie a te Live sulla circoncisione No Non è che faccio Cioè se io invito Delle fiche in live Facciamo otto mila viewers Con la live della circoncisione Faccio magari Boh Tremila e cinque Quattro mila Però Che comunque sono già Dei signori numeri Eh Però Quella è una cosa preziosa Non so come dire Sto aggiungendo Una cosa secondo me Bella Nell'ecosistema Infinito di internet Secondo ovviamente Il mio schema di valori Eh Quindi non si può guardare Soltanto al risultato immediato Ma anche A ciò che stai lasciando Letteralmente Posso fare una domanda Che prima ho visto Dalla chat Ma Sei ebreo Come Parenzo Ma non credo Cioè Perché Parenzo è un ebreo specifico Parenzo No Il Parenzo dice Di essere ebreo E c'è questo meme Dove Le persone Mandano Dei messaggi Vocali E Lo insultano Sempre Perché sai Ebreo Massoneria C'è quel legame Lì C'è questa gag No Io mi sono circonciso Per donare Ai meno fortunati Ok Non sapevo Questa No no Per motivi medici Che sono la Fimosi Di cui Parlo Con il Dottor La 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 E E Tanti Giovani Ad esempio Tu Quando è L'ultima La 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 Questa Questa Ce l'avevo Nelle Domande Già Puoi anche dire Mai Mai Ti do un piccolo dato Secondo Non Perchè io poi sono ipocondriaco Ecco e allora domani subito a farsi vedere il cazzo Perché Il dottor La Pera diceva Tra il 40 e il 70% degli uomini Hanno qualcosa Anche roba che risolve con una pomata Non so Puoi andarti a rivedere l'intervista No a parte gli scherzi Guardatela Perché c'è su youtube Magari fai una piccola storia Per dire Guardate questa cosa se avete il pene No 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 Col cazzo Col cazzo Sì esatto No Per la mia piccola associazione Insieme al mio amico Esatto Per noi vogliamo migliorare il vostro pene No a parte le battute Il problema qual è Che le ragazze Crescendo Potrei chiedere Conferma alla tua fanciulla Crescendo Arriva il ciclo Si va dal ginecologo Se ne parla No Invece gli uomini Sono Presupposto che siano invincibili Col cazzo indistruttibile Non hanno mai un problema E non vanno dall'andrologo Magari fino ai 30 40 Finché non c'è una cosa Che si vede Nel mio caso Il mio pipo Non gli passava il glande Nel prepuzio Quindi ho dovuto per forza tagliarlo Per fare all'amore Però se non fosse stato per quello Anch'io non sarei andato all'andrologo E dato che in chat ci guardano In tanti Più o meno giovani E dato che la circoncisione Nel caso di Fimusi È una cosa che Più tardi la fai peggio Tantissimi si rovinano La vita sessuale Magari non fanno cose Hanno ansie C'è un aspetto psicologico Veramente molto importante E in tantissimi Mi hanno scritto Grazie mille Grazie mille Guarda il mio cazzo Così E quindi È veramente Una quantità di cazzi In chat Guarda Dici il mio Sì esatto E così Infatti La prossima settimana Parleremo con una esperta Di mammografie Ah beh Perché Dove fare Parcondigio No no Così mi mando le foto Delle zinne Anche Questo è il grande trick Comunque No Però è vero In un momento C'è questo tema Soprattutto Su Instagram Lo trattano Della Vulvo 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 qualcosa Che Ha portato avanti Soprattutto La fidanzata Di Damiano Dei Manes Che in Georgia Ah sì 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 ho presente E hanno Anche Anche a lei E ne ha fatto un monologo Lei mi sembra Vado sempre con le pinze Perché io poi Ho una memoria Di merda Ed è un argomento Molto simile Secondo me Alla A quello che Di cui hai parlato Tu adesso Quindi Sei uno Un po' maschilista Perché dici Vabbè Allora Dato che si parla Delle donne Dobbiamo parlare No però in realtà È vero Su questo Perché l'uomo Questo lo diceva Emma Watson Quando è andata Alle Nazioni Unite A Harry Potter No Quando è andata Sì È andata da Silente E gli ha detto No Gli ha detto Alle Nazioni Unite Che lei è la rappresentante Delle donne Di non so bene Comunque diceva Il femminismo È una cosa Che riguarda Gli uomini E le donne Insieme Quindi Anche agli uomini Anche agli uomini Che sono costretti Ad essere Sempre Costretti Insomma Che ci si aspetta Che siano sempre resistenti Che non possono mai piangere Stare male Quello che è Anche questa parte È ovvio che le donne Possono fare Ma non c'è niente Non è che è una Anche qua Non è una gara Che cos'è il phd Il phd è un Si legge phd Phd Sta per Philosopher Doctor Ah ok Hai il doctor Esatto E sarebbe il dottorato Il dottorato Che è questa cosa Che ho fatto Così per ridere Negli ultimi dieci anni Ok Perfetto Ma è un meme un po' No 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 Praticamente Ogni volta che c'è un ospito Devo sempre flexare Il dottorato Tu fai triennale Ah ma tu lo sai Te l'ho spiegato Sai perché non l'ha flexato Perché ci siamo visti E l'ho già flexato dal vivo Una settimana fa E mi ha raccontato Cose molto interessanti Devo dire Perché Ma tra l'altro Te l'ho chiesto io Quindi mi sono Fatto lo sgambetto E tu mi hai raccontato Per soli 45 minuti Tutto questo mondo Quindi per questo Già non Non me la Non c'era bisogno Di flexare PhD non me l'avevi detto Quindi era importante Chiudere E poi infatti No la chat giustamente PhD flex Ok abbiamo fatto Possiamo andare avanti Chat Perfetto Sempre a questo punto Ma il problema è che me lo dicono Anche con ospiti internazionali Che poi con l'inglese Devo spiegargli E loro PhD flex Vabbè Andiamo avanti Adesso Adriana Flex Arriverà Guarda C'è già C'è già Perché Adriana Cecik C'è l'Evra e Pornostar Voleva fare l'amore con me Ok Andiamo avanti Ma è una cosa È una deformazione professionale Delle Pornostar Penso Perché se vuoi C'è un aneddoto Su questa cosa Prego Se no andiamo alla prossima domanda E poi te lo racconto Prego Allora Io ho intervistato Questa giovane fanciulla Che non dirò Chi è Che però faceva parte Del mondo Della sfera Sessuale No E E lei Mentre facevamo Quest'intervista Arrivata a un certo punto Un uomo Doveva darle Dei soldi Ok Doveva darle Dei soldi C'è nel video Quindi Ah ok No credevo Perché era finita la transazione E lei Già prima Ma in quel momento Mi fa Adesso Tiri fuori la carta di credito E ritiri dei soldi Anche tu Coglione Mi dice Ma come Scusa Ma Stiamo E io sono rimasto un po' così Come un coglione Con la telecamera in mano Così Faccio ma Scusa ma stai scherzando Mi faccio Ma io Cioè Sto filmando la cosa No 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 Adesso Tiri fuori la carta E mi dai 500 euro Pure Ma manco poco Faccio ma che c***o Ma sei coglione Faccio ma sei cretina Faccio ma stai dicendo davvero Poi si è rinsanita la cosa Però Ecco Secondo me È una deformazione professionale Di chi lavora al mondo Del sesso Provarci Un po' con Con le persone Che ci hanno davanti Non lo so Ho detto una cosa un po' Razzista Mi piace che si gira verso la ragazza Allora quali leggi sociali Ho violato Ma Eh sì perché lei È il mio antitrust No mi regola Le cose che posso No in questo caso Di Adriana In realtà c'era stato Il celebre format Lo bombi o lo passi Che in inglese era diventato Do you Fuck it or passi Non so comunque E aveva passato diverse persone Quando è arrivata a me Mi fa Eh ma perché tu sei così nerd Un po' grassoncello Ed è rimasta E mi chiama Andrew Clay Dicono In chat dicono Ma il nesso Di questa storia Che hai raccontato Perché Vabbè Diciamolo Era una ragazza Che dominava Dominava finanziariamente Era Gli uomini E nel corso Del video Ha provato A farlo anche con me Ah perché dice Già che domino Domino chi c'è Chi mi capita Cioè no Scusa eh Ma alla fine Quanto Poi hai fatto con la carta O in contanti Alla fine Non voglio dirlo Non voglio dirlo Perché è una cosa Che sto cercando Di curare Con il mio psicoanalista Ed è un peccato Che certo E così anche lui Adesso telefona Perché hai raccontato E la lista di telefonata Aumenta Tutti Tutti Anche loro In un'altra stanza Poi Allora Vediamo un po' Cosa c'ho qua Vabbè Queste sono delle domande Del cazzo Ti piacciono i piedi No Ok Faresti meno dei tuoi Sarebbe molto difficile Camminare Me lo segno Perché è una riflessione Che non avevo fatto Grazie mille Ehm La copertina del tuo canale YouTube È da aggiornare Lo so Non me lo dire pure tu C'ho C'ho Una lista di persone Che mi dicono questa cosa Ma Io penso che non la guardi nessuno E poi Evidentemente no Perché Devo cambiare La cambio Finita questa Ma basta che Guarda Basta che togli Chi l'ha scritta Ogni domenica No 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 Lascia tutto così Ogni domenica No ogni giorno Che cazzo è Ma dici È una divisa È un banner Ma una cosa Dici vabbè C'è ancora quello vecchio Però che mi Se mi dai proprio False informazioni No Ma tanto Cioè Noi che guardiamo Non so Facciamo un sondaggio Chi è che In chat Chi è che guarda Moderatori Chi è che guarda Perché la vedi Lo vedi se Tendenzialmente apri da pc Perché dal telefono Sì sì Facciamo No ma facciamo pure un sondaggio Ti dirò di più Per questo motivo specifico E questa intervista Immaginavo avremmo fatto un sondaggio E quindi ho fatto scrivere Una musica da sondaggio Vai Ci abbiamo in regia Questa musica è veramente scritta apposta Non per questo Ma per il twister Un format che faccio Ma dobbiamo ascoltare solo la musica O possiamo riempire questo vuoto che c'è Del nostri cuori Credevo lo stessimo già facendo Sta tipo No Dobbiamo ascoltarla tutta In silenzio E dura 36 minuti Due settimane fa La mia mi ha lasciato per un altro consigli Ah scusami Perché mi ti arrivano le donazioni Calmi calmi No ma fatemi domandi Per i cazzi vostri Mentre sono qua con l'ospite Ma perché poveretto Ma aiutiamolo sto ragazzo Allora Lo metterò nella lista delle domande Aiutiamo questo ragazzo Mi ha lasciato la tipa Per un altro Cosa consigli Lorenzo Lorenzo Cosa vogliamo dire a Lorenzo Ti l'ha lasciato per un altro Io sono una persona meno adatta in amore Faccio schifo Però ci proviamo Ma se ti ha lasciato Per un altro È perché volevo un altro Uno Alla fine Secondo me si deve rassegnare No? Cioè Arrivato ad un certo punto Sti cazzi Non vorrei dire cose un po' Brutte Però Cioè Se non ti vuole Tocca andare avanti Oppure Cercare vendetta Come? Ma il modo più ovvio È quello di Diventare omosessuale Conquistare il tipo Col quale ti ha tradito Scoparlo E poi Niente Andare avanti Cazzo Ma è geniale Sta cosa Sai che Non te lo aspetti Perché arriva da dietro La cosa E anche altro Per via del cambio Sai che me lo so Anch'io Oppure puoi andare In palestra Molto forte Se sei un po' Bruttino Diventa Fighissimo E super ricco E poi Ignorala Ma sai che penso Sono arrivato Cioè tipo Conosco tanti 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 Comunque Chad Chad Si chiamano Tanti Chad Ma Sai che sono quelli Secondo me Che rimorchiano di meno Perché hanno Le ragazze Li vedono Come stessi Sti Menosi Del cazzo Che sembra che C'hanno i muscoli Solo loro E E poi Non hanno Quel carisma Per andare Dalla ragazza E provarci Bravo Tipo Forse è la Sindrome del Tiktoker Possiamo dirlo La sindrome del Tiktoker Del bello Del bello Del bello Si che sta lì Se la mena Ma come la figa Incredibile La figa incredibile Secondo me Rimorchia Poco perché Quella che se la mena Tantissimo Poi quella simpatica Che sta lì Che parla Che Non sembra Jennifer Lopez Perché Se la deve menare Ogni tre secondi O magari Non ti guarda Non ti rivolge La parola Si che se vive Su un altro pianeta Allora va a fanculo Nella tua atmosfera Eh appunto Giusto E quindi Niente Secondo me Ma io sono super D'accordo con te E Qua siamo un po' Come un bel Marconi Che siamo arrivati Ad una teoria Indipendentemente Ma Ho letto Ho letto Ho letto una cosa Il Chad Non scopra per scelta Esatto Per scelta Però Delle altre L'idea Secondo me È questa Che quando uno È giovane Ok La ragazza Mi cerca L'uomo bello E siamo d'accordo Ma quando poi Si cresce Intorno ai 18 19 anni Che cosa succede Che quelli cessi I maschi cessi Che hanno magari Cercato di Annusare la figa Neanche vederla Hanno dovuto sviluppare Delle tecniche Di conquista Utilizzando la parola Il carisma Il piccolo Cadò L'attenzione Tutte queste cose Che il Chad Non ha dovuto sviluppare Perché lui Se precisamente Stava lì E dei mari Di fica Gli arrivavano in testa Giusto? È vero È vero Ma perché Io so basso Non so Non è che mi presento Là E ho i muscoli Scolpiti Quindi devo trovare Queste cazzate Per Cioè Lo dico In live Così Magari le ragazze Ah ma anch'io È vero Anch'io sono così Ho ragione E quindi I Chad Vengono messi da parte Ragazzi Ci ho provato Ognuno Faccio propaganda politica Sulla mia categoria Ma tu non ne hai bisogno Perché hai una È la fanciulla Poi è tratto di fianco a te Quindi Ah vero Hai ragione Ma lei pubblicamente Si sa chi è O viene nascosta Apposta Sì Sì Ah ok No perché stava fuori Dalla telecamera E devo dirti la verità All'inizio Credevo fosse la pianta Perché guardavi di là Sì Eccola Ha le mani Questa è già una mano E sulla domanda di prima I piedi Anche le mani Fortissimo Fortissimo Beh con le mani Vabbè Ehm Questa è un'altra domanda Che arriva No per dire Questa è un'altra domanda Che è stata scritta E' stata scritta Questa da me Quanto il tuo cognome Ha impattato Ma Adriana c'è Lì Da me Eh È lì Sì No ovviamente no È a Los Angeles Ah Certo Con il bene che ti voglio Ci fosse Adriana qua Stavo con te Per dire Però Ci confermi che non hai mai avuto un rapporto sessuale con questa ragazza Ah potevi fermarti anche a prima di con questa ragazza Guarda che la mette sull'ironia Comunque no Comunque no Ma non ci siamo mai visti di Los Angeles Allora facciamo Facciamo un video dove andiamo a Los Angeles Eccala Incredibile Bellissimo Un film straordinario Un'alta cinematografia Dove Ma lo facciamo Proprio con le inquadrature cinematografiche Capito Aveva soltanto una missione Esatto Quella di conquistare La più famosa porno star del mondo Facciamo fare I po' di sovere a De Malloro Finita Allora ho capito Che per riuscire a conquistare una ragazza di Los Angeles Devi andare a Los Angeles E allora ho chiesto a De Vabbè Un saluto a Ema che conosco Si fa per ridere Si fa per ridere Ma io Sono imitatore ufficiale Davanti a De Malloro De Malloro Wow Col pelo così Vero Ma non voglio svelarlo Quindi andiamo avanti Perfetto Ehm No questa domanda Non è interessante Quanto il tuo cognome è impattato nella tua vita Ad esempio sostituendo la B alla V Potrebbe uscire il cognome bagnato Che sembrerebbe lasciare intendere Che ti sei fatto o la pipì addosso O addirittura sei lievemente eccitato Allora questo problema non si pone del cambio della lettera All'inizio perché in Calabrese Bagnato si dice Si tutto bagnato Quindi è E' già fatto Ok Già fatto Quindi Si da piccolo Era Tantissimo Non potevi uscire di casa proprio Non potevo uscire Ci avevo le persone fuori dalla finestra Che dicevano Bagnato Esatto No eh Si Da piccolo si Poi Basta Poi appena hai cambiato voce Ah no No è rimasto Quella di quando avevo 5 anni Infatti Quante delusione In lingua originale Sì Scrivono Perché ha fatto così ridere Ma no mi faceva ridere così La La tua finta tristezza Comunque Rido 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 E no perché guardate che per uno Che fa battute Avere un altro che Alza l'asticella e te le tiene E' importante Cioè io di solito intervisto persone che fanno Il medico Quindi non è che mi Anzi devo cercare di conquistarli Per farli ridere Io sono la prima persona non laureata Mi stai dicendo No 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 Sono abbastanza sicuro che ce ne fossero di non laureate Però no per dire Ah ok ok Di non laureate Quindi è una statistica tua Sì faccio dei piccoli tic tac in un excel Poi se vuoi ti condivido Adriana sicuramente è laureata Andiamo avanti Sì Nella In delle cose Diversità della vita No penso che abbia una cattedra O sotto una cattedra Ma Ehm Ah niente Ho finito le domande Ma va benissimo così Perché in realtà Voglio farti un dono Finito il tempo Ah Ehm No no scusami Metto una musica di tensione Vai Non so perché Non c'entra niente la tensione Ah poi c'ho anche questo Che bello Esatto un po' così C'ho dei suoni qua Vabbè al di là di questo Voglio farti un regalo Ehm Perché sei stato veramente molto molto simpatico E molto E' stato molto interessante parlarti Ovviamente l'ho già preparato prima Quindi non potevo sapere che lo saresti stato So che stai facendo questo Cioè sappiamo L'abbiamo visto Il Questo format dei mestieri Che si chiama 24 ore in un giorno solo E Cazzo Big Luca Ci sei presente Ci sei un culo così Potresti cambiarlo tutti gli episodi comunque Secondo me Per far Ogni giorno Sai che è geniale Ogni episodio cambia Lievemente Di modo che tutti pensano che è quello Ma poi nessuno sa come cazzo si chiama veramente Comunque Perché una cosa Chi è che conosce davvero i titoli dei format A meno che non siano Cioè No ma infatti Quello del lavoro Quindi va bene così Sì ma è come E come i titoli del film porno Alla fine tu cerchi Big tits O Young boy Shits In younger mouth Sai Non conosce almeno un format dei porno Almeno uno Beh Fake taxi dai Fake taxi Però è mainstream Un altro No Ce n'è uno incredibile Consiglio Consiglio cinematografico Ci abbiamo una sigla? Sì c'ho Perché sennò poi si perde l'attenzione Allora C'è questo qui Quello si chiama College Rute Mi sembra Mi vogliono Ah certo lo conosco benissimo E fingono di stare tutti al college Che è una cosa molto Per noi italiani Che abbiamo questo sogno americano Consiglio Andatelo a guardare Molto carino Perché sembra finto Amatorial La mia fidanzata nel frattempo Sta Già Già Nelle valigie Nelle cose Con la sua mano Che sappiamo avere E i piedi Che ci hai garantito tu Comunque family therapy È il migliore che esista Come format E sono Quasi amatoriali Sembrano amatoriali È un altro È un marpio Eh no ma perché l'ho letto in cia Li conosco Li conosco però Non me li ricordo Perché in quel momento Sto facendo altro Ovviamente Ehm College rules comunque College rules Perfetto Io ti suggerisco E suggerisco qua Tutte le televisioni Questa poi se la mettiamo su youtube La censuro Perché non voglio dare pubblicità gratis Il sito web migliore Che esista È No l'ho censurata già qua Ho sbagliato scusami Il sito web migliore È porzo.com Controllalo Perché non è niente male Porzo.com Comunque Vabbè poi te lo mando su whatsapp E C'è un C'è un caffè Mi suggeriscono da dietro Un cazzo nel caffè No non è quello C'è un mio amico che No è un sito È un sito web Sì dice il logo C'è un mio amico Di ripeto Non è la mia Può essere Un cazzo nel caffè Un cazzo nel caffè Non mi aspetto un attimo Ma è vera questa cosa? No 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 È una cosa molto semplice È un sito non tanto conosciuto Almeno non conosco amici Ma l'hai fatto tu l'hai fatto eh No magari magari Però è molto bello Le categorie funzionano ottimamente Ma al di là di questo È questo che fa il phd ragazzi È questo che fa Non ve lo dice Pretty huge dick infatti Dicevo Ma di cosa stiamo parlando? No infatti ti stavo cercando di dire Voglio farti un regalo Un regalo dalla mia community Ok? Sì Questa è la musica del regalo È sempre uguale Sono simili Stavo parlando A casa mia eh? Per una pistola eh? Ciccio gamer aspetta Oh! Che sei? Oh! Stai tornando No niente No niente niente Fake Non stai giocando a MotoGP Quindi naturalmente non puoi Non puoi vivere il meme appieno Salutiamo Mirko Che anche lui ci segue sempre Nella stanza Perché ho fatto una cazzata E ho detto per il mio amico Francesco Perché pensavo si chiamasse Francesco Ho detto ho fatto una super figura di merda Mirko Hai ragione Mirko Alessandrini Sì! Esatto esatto Perché Ma credevo Francesco È il papa io No no io Ciccio pensavo si chiamasse Francesco Ho collegato subito Invece ho fatto una figura di merda Va bene Ma sai che sono due persone diverse Cioè non è che Ciccio gamer è il papa E viceversa Eh Questo è una nozione sul quale posso iniziare a lavorare Perché Non me ne ero accorto No ma che ci sta Dice ah mangia l'ostia Se sente tutto Regà Fa il panino Due Roma poi È quello che Eh ma sì perché un attimo Poi anche la L'accento è veramente molto simile Comunque Oh sta Prima Mentre ti aspettavamo Ma non è per farti sentire in colpa Perché così ho potuto fare questo Ehm Con la community abbiamo pensato Dato che ho visto che leggi nei commenti Quali nuovi mestieri fare eccetera Ho preparato una lista Dalla chat E poi filtrata da me Di mestieri a cui sicuramente non hai pensato Vorrei sapere secondo te se è fattibile o non è fattibile Senza spoilerare cose future E quello Allora Vabbè il primo che mi hanno detto tutti è lo streamer Non io necessariamente Chi vuoi tu Ma l'hanno consigliato in tanti Ehm Ma che cazzo fai poi Eh Dico Cioè Secondo te c'è tanto Da vedere che già non si vede Dipende che streamer è Ehm Ehm In effetti il terzo occhio Su qualcuno che sta sempre davanti al primo occhio E il secondo non so se sia finito Ehm Potrebbe essere qualcosa Secondo me è difficile Ehm E che la vedo una cosa molto vicina A quello che fai tu Quindi sarebbe tipo stupido chiederti Ma cosa fai la mattina Cioè Però potrebbe essere che lo Però infatti secondo me più che lo streamer generico È veramente uno streamer così Tipolare Sì E considera che volendo è anche una cosa che puoi fare a poco costo Cioè Mi conosci E Lo fai Domanda Una cosa che mi potrebbe super interessare Esistono C'era un periodo delle streamer Che si mettevano la piscina in casa Ci sono ancora Ci sono? Ci sono ancora Molto interessante Ottab streamer Perché hanno da gestire la piscina Poi devono cambiargli l'acqua Questa è molto forte Molto forte Io mi chiedo Ma poi cosa Cosa fanno loro Nelle live Non dicono nulla Cioè Cosa dicono? No Che fanno normale Chiacchiano Io ho delle ore di pool Sul mio canale Perché la mia intervistata Era in una pool Ah 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 La cara vecchia figa Quattici i favori che fate voi della tv Vieni da me Ti faccio diventare famosa Voi dalla tv Ma che cosa Questi favori sessuali in campo No A luci Quando si spegne una telecamera Si accende una grande opportunità Però No Secondo me Questo è forte Questo è forte Quello sarebbe interessante perché Non so se è ancora attuale come argomento Meno Però secondo me Lo fai nel momento giusto In cui non è così In hype Eccetera eccetera Ma è Una cosa Perché comunque c'è chi continua a farlo Onestamente In Italia Sai che non so più bellissimo Chi potresti chiedere Vedo spesso le ragazze quelle che fanno gli asm Cioè vedo Vedo che quando apro twitch Mi escono di lato E a qualche volta clicco E non dicono nulla Cioè sono loro un po' denudate Che salutano le persone Giusto? Come non dicono nulla Fanno un'arte Un'arte Oh Ti do Aspetta Ti do lo scoops Adesso Secondo me ci sarà Un'onda di body painting Su twitch Perché l'ha fatta Una Una streamer americana Veramente Cioè Nuda Ti posso dare una Una nozione incredibile Che poi mi dimentico Vai Ho conosciuto Una ragazza Che fa body painting Con il suo metro Ora così tanto Non ho niente di cui ridere No però era troppo E ho detto Non posso fare Un Cioè Ti posso dare un'altra informazione Una mia amica Tra l'altro L'ha presentata Ale Della giusta Che salutiamo Ciao Ale E Una mia amica A un certo punto Presa da Una un po' hippie Ha fatto un quadro Col suo mestru Ah Che è comunque Molto meno strong Del body painting Ma non è che è la stessa No 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 No? No 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 Sicuro? Sì Però esiste tutto un filone E E mi diceva Che diciamo Poi non è che lasci Proprio degli odorini Quindi posso immaginarmi Eh fai il bastardo Mi porti Guarda che io non ho paura Di niente Comunque salutiamo Tutto il mestruo E le ragazze È una cosa normalissima Non è normale Il dipingerci Possiamo dirlo Posso dirlo Sì 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 Poi cosa fai Ci metti un po' di smaltino Sopra Per lasciare Perché Che se no va via Dici Non lo so E non mi interessa Vabbè Andiamo avanti Prossimo mestiere Questo è Comunque Informati su questo O pull stream Secondo me Può essere un video Bello Diciamo Non straordinario Ma bello Video straordinario Invece secondo me È il ginecologo Difficile Problemi di privacy Cioè È una cosa che dici Chi cazzo si fa riprendere Che vada al ginecologo O trovi No Potresti trovare Tipo la ragazza Conosciuta Che vuole mandare Il messaggio Andiamo dal ginecologo Però comunque Non puoi mostrare L'atto O comunque No Lei riprendi in faccia Mentre quello Ma non lo posso fare io Cioè È una Lì è violenza Se lo faccio io Non sono medico Vabbè Che cazzo Gli tiri il telefono in faccia Sì Ma se no Se autorizza Dice Sì sì Vieni pure Ma ecco Ecco Questo Apri un bel tema Apri un bel tema Cioè Se io fossi autorizzato In quel momento Starei commettendo Un illecito Perché non sono medico No Non credo Non credo Cosa dice E la chat Cosa dice No Qualche avvocato No Sì Eh dovremmo chiedere All'avvocato Angelo Greco Qualunque Adesso tu Chiunque Puoi esser Se ha una domanda Pronto Angelo Greco Ragazzi Oggi Inizia lui Mi hanno chiesto Se Infilare le mani Nella figa Di una ragazza Mentre si sta facendo Finta Di fare il ginecologo Sia legale Vediamo con la firma La legge è uguale Per tutti Ragazzi Nel diritto penale Ecco Penale Soprattutto Eh no Comunque è un'idea Un po' di merda Secondo me Per un video Perché Poi In teoria Tu devi narrare Non la visita Ginecologica Ma cosa fa il ginecologo Che cosa fa il ginecologo Riceve pazienti Quindi dovreste averne Cinque Sei Dieci Non so quante Ficche al giorno Guardino Però secondo me Il chirurgo Eh Il chirurgo Che guardi Cioè secondo me Fa tipo dei momenti Poi c'è la sala operatoria Il chirurgo Quelli O plastico Mi suggerisce Oppure Il chirurgo Quelli volontari Che vanno Gratis Per esempio In Africa Nelle varie Quello molto interessante Perché lì Penso Cioè Dici vabbè Non è un lavoro Che Uno può immaginare Cosa succede Cacchio vai Dall'altra parte del mondo Ad operare delle persone In condizioni Folli E Quello potrebbe essere interessante E siamo a due Di potrebbe essere interessante Su due Vero Poi anche qua Un po' di problemi legali Bidello Delle scuole medie Questo farebbe Molto ridere Però non so se puoi Ma penso di sì Dai Se il presidente Ti autorizza Al fine non fai niente di male Questo farebbe molto È che ci sono i minorenni Mi dice il mio Il mio angelo greco Ok Allora delle scuole superiori Di quinta Solo Di quinta Solo di quinta Tra una Esatto Il piano dove ci sono solo le quinte Però fuori questa Una cosa che volevo fare Ma non mi sono mai attivato Infatti la dico così Se la fa qualcun altro Poi gli dico Eh Volevi C'è una scuola Che è la scuola Più costosa D'Italia Che sarebbe interessante Da Cioè Costa tipo Trentamila euro l'anno Non vorrei Dico sempre Non vorrei dire una cavolata Ed è una scuola Elementare Elementare medie Sì Eh Vero vero Questo potrebbe essere Chissà i bidelli Come sono lì Saranno tutti Sono l'equivalente Del rettore Della scuola Normale Di Pisa No Saluto Il rettore della scuola normale Di Pisa Ehm Hai fatto l'università lì No 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 Ma di dove sono io? Di Torino Bravo Eh Vedi che prima Hai detto di Bologna E la chat E io ho detto Ah sta scherzando E la chat però Non l'ha capito Quindi devi stare attento Perché Ho detto di Bologna Perché c'è un meme Che Ehm Mi somiglio un po' A quelli di Bologna C'è tipo Il Il lujo Soch melma I buccini Di turno Ah dici un po' Trasan Un po' che vive Ho capito cosa intendi No 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 Semplicemente non mi lavo È vero Che Come è vero Quelli di Bologna Non si lavano No Sto dicendo che per ottenere Lo stesso look Si può anche non lavarsi Che non è la soluzione Che adottano loro Loro Inalano Gli splendidi Odori Di una città Con una storia straordinaria Vero Vero Voilà Come a Torino Ci sono tutti Tu sei calabre Sarai sicuro Calabreso Pugliese O Lucano Si perché a Torino Ci sono solo persone Che provengono dal sud Solo E infatti io sono nato Ad Asti Vicino a Torino Ah vero Ma l'hai detto Si 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 E fai un ritorno Fai un ritorno a Pinerolo Per andare a fare Dove sono nato io Straordinaria città Vabbè Comunque Abbiamo altri consigli Si ne ho tipo 15 Quindi andiamo più veloce In bianchino Allora Guarda che il lavoro umile Perché lo so Tu pensi Devo fare un lavoro Però la gente Normale Non sa cosa fa un in bianchino E' vero E' vero Però Io Almeno in Calabria Io avevo questo Che veniva a pitturare a casa Che beveva un sacco Di caffè Un sacco Cioè io lo ricordo Ero piccolo Dicevo cazzo Mi ricordo quando veniva E ogni 15 minuti C'era pausa a caffè Quindi immagino questo E beh Che video incredibile viene così Che ogni qui diceva Piccolo caffè No il punto E' che tu devi fare le cose Perché poi sei tu Che devi fare quel mestiere E fare il bianchino Non è facile E' molto faticoso E' molto faticoso E' molto faticoso Io ho pitturato Uno studio di un amico Di un caro amico E una volta E' molto faticoso Poi sai Io ho messo il bianchino Ma può essere muratore Cioè qualcuno che lavora nel cantiere Può essere interessante Anche Poi dopo Poi Scrivo tutto Camionista Te rimando Camionista Camionista è interessante Camionista è forte In culo Secondo me Quelli internazionali Soprattutto Perché fanno tipo Delle Tratte C'era un programma Su D-Max Dei camionisti Tipo In nord Europa Dove faceva freddissimo Che attraversavano Delle strade Pericolosissime Non so se qualcuno Lo ricorda Serve la patente Vero Per il camionista Ah è vero Cazzo Non ci ho pensato La patente C Potresti Potresti prenderla Per fare il video Solo per fare il video Guarda Questo qua Allora Tu non sei tanto Quel tipo di creator Ma sai che su youtube Ci sono dei pazzi squilibrati E Potrebbe essere Una cosa che fai Da pazzo Cioè Ci sono youtuber Che Ma americani Secondo me Di più Che dicono Ah dovevo Volevo fare questo video Sul camion Che mi ha suggerito Hank Così intanto facciamo Piccola dv Che mi ha suggerito Hank Però ci vuole la patente Allora ho preso la patente E c'è Tutto il pezzo di te Che ti registri Che ti presta Se c'hai la sbatta Di farlo Secondo me Ci metto un anno Ma l'ho fatto Un anno Per fare solo Questo video qua Così E' forte No potrebbe essere interessante Però seguirlo Senza guidare Anche perché Penso che il guidare Sia il meno Poi dai Sì fondamentalmente Il tipo di vita Che fanno I tempi Anche la pressione Che viene messa Sui camionisti Uno dei più grandi È Che Se davvero vanno Con le signorine A pagamento Trovate Ma basta con ste puttano Ma c'hai un problema C'è sempre sto pallino Però scusami A cosa pensi Se pensi al camionista Pensa al camionista Che chiama Nell'autogrill Vede il numero E chiama Posso dirlo? Lo diciamo? Io penso a Dello champagne Ah Il classico champagne Il brindisi fra camionisti È uno dei più celebri Esatto Io posso essere sincero Penso ai calendari Ai calendari Ai calendari delle donne nude Sono certo che ci sia Siamo sul mondo sessuale Sì ma c'è una bella differenza Fra un cam tribute E andare a prostitute Scusami Vuoi Vuoi? E Angelo Greco Non è di questo Non è di questo parere Che salutiamo anche lui E poi penso anche a Dei led Perché alcuni camionisti Hanno tutto il davanti Super griffato E Ok Il calendario è più da meccanico Mi dicono Giusto E infatti Infatti pensavo a uno Con la chiave inglese in mano Ci sta Ci sta E questo è forte Secondo me Dato anche le connessioni che hai tu Il prete Ovviamente tagli la parte Quella la Però Sì che volevo farlo Volevo farlo Il primo episodio Quando pensai questo Questo format Un anno fa Quando lo pensai Ai tempi di Social network Pensavo di iniziare Proprio dal prete Soprattutto Era Era nata la tendenza In quel periodo Dei preti social E volevo Sì Non andare però Da quello là Al Donalberto Hai avuto anche tu Screzzi? No Non ho avuto screzzi Però se sempre Ci sarà un altro prete Che ha la telecamera Quello che su TikTok Gioca a calcio Quello mi sembra Già più competente No perché Donalberto Perché il problema Vabbè adesso Torniamo a parlare I preti Nessun problema Io e Donalberto Siamo amici D'infanzia Perfetto così Perfetto Va benissimo E voilà Ho quello dei filtri Non so se Penso di sì Hai vedete il tipo Che dice C'è qualcuno Durante la messa Che trasmette la messa Per la quarantena Su Instagram E gli però Qualcuno gli mette I filtri No Quello lì Sarebbe incredibile Trovare Che non so Ovviamente È perduto Nell'Eternit Dov'è Però Quello lì Secondo me Farebbe molto ridere E' vero Molto E' Poi Vabbè Questa è di una banalità L'ho messa Per non offenderti Il porno attore Vabbè Il porno attore Dico questa cosa Se Vorrei farlo Con Col mitico Con Con Rocco Con Rocco Sì Solità Io conosco Il figlio E Dovrei proporre So che lui lavora Perché a me Spaventa sempre Fare i viaggi Lui è a Budapest E quindi Dovrei trovare Un periodo In cui Dico Cazzo Mi metto di impegno Vado a Budapest Se faccio questa cosa Se lui ha piacere a farla Ma penso che gli possa interessare Io L'abbiamo chiamato in live Due volte Rocco E siamo anche noi Abbiamo parlato col Col figlio Che è il suo manager Di fatto Lorenzo Sì Mitico Sì Quindi secondo me Sì Se c'è voglia di andare a Budapest Come dicono quelli che Perché si distingue il viaggiatore E anche produttore Esatto Sì Poi c'è la moglie Là c'è Uno dei due Mi sembra che sia pornoattore Io ho visto Non so se hai visto Seafreddy Late Night Grandissima serie Perché si parla di figlia Late Night no È bello perché C'è lui Che è quello di Netflix Su Netflix Che lui mostra L'Accademia Lei è geniale Ah l'Accademia L'Accademia l'ho visto Geniale È forte Molto forte Si parla di figlia È incredibile Che poi in realtà È stato fatto anche in America Su X Hamster Un altro sito web Che ho sentito parlare Non l'ho mai consultato Non l'hai mai consultato Nella maniera più assoluta E lì Ho visto che c'era E c'era Vabbè Non c'era Johnny Sins Ma c'era l'altro Che c'era un cazzo Mi hanno detto Non hai visto No Ho visto il mio amico Il quale mi ha raccontato No E poi il becchino Anche qua Non puoi ovviamente Prendere il cadavere Però secondo me Il becchino Taffo Taffo Sarebbe super divertente Che è quella Agenzia funebre Che fanno Che mema L'ha fatto Mi sa Hanno fatto Forse le iene Un servizio su di loro Lo ricordo O loro si producevano Dei video Dove raccontavano Può essere Perché ricordo Che avevano Avevano già raccontato Qualcosina dietro Che avevo visto Però è super interessante Taffo Non te lo dico dopo Perché avevo Ho una Da anni Che fa un lavoro Eccezionale Sempre sul mondo Dei morti Però È necessario Che si veda il cadavere Quindi Non so come cacchio Perché lo puoi fare Con un manichino Però No no Se devi vederlo Devi vedere Però anche Però attenzione Perché Secondo te Che cosa Adesso ti faccio Una domanda Da manager Da tuo manager Secondo te Che cosa piace di più Dei tuoi video Il fatto che Tu fai il mestiere O che si spiega Il mestiere Penso sia Un'unione No Cioè Penso che sia Io Faccio In questo momento Faccio le cose Che vorrei vedere Cioè Dico Cazzo Il paparazzo Loro Loro Soprattutto Cioè Poi non lo so Nel privato Perché non è che faccio Inchieste giornalistiche Io Però Li amano Sti cazzo di animali No E ho cercato Di fare Delle domande Per capire Come fosse Il loro atteggiamento Però Hanno proprio Una Cioè Non me li immagino Che si mettono lì E li menano Capito Cioè No 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 Chiaro Beh poi ci convivono Cioè Sono sia quelli che danno loro il lavoro Poi quei che ci lavorano Ci convivono Quindi Come se è un cagnolino Lomeni Sei un coglione Cioè Piuttosto No Ma probabilmente La critica dei circhi Viene fatta da quelle produzioni Molto più grandi O di altre Sono Non sono cazzo Però Quindi non Però Per quanto riguarda Il Non lo so Tu che dici? Secondo me dipende dal video Entrambe sicuramente Però Tipo che ne so Quello del paparazzo Può essere interessante Più il lavoro Quello del circo E' più interessante Vedere te Che le fai le cose No Perché più è distante Dalla conoscenza pubblica Più che poi tu lo faccia È un extra No Quindi Alcune di queste cose In questa lista Ad esempio La cosa che mi dicevi Dei morti Eccetera Probabilmente Più che andare a vedere Esattamente come fa Quello che fa Qualunque cosa essa sia Vedere te Che lo fai E stare di fianco Un cadavere Quello Ah dici Non inquadri il morto Però è una cosa Molto forte Non lo so Che strong Stai da pensarci Ma io qua non ti ho dato Nessuna idea geniale Cioè sono Sono qua sotto Quindi Eh ma È difficile Eh ma Questo è È la parte La cosa interessante No più interessante No dipende Dagli equilibri No Che ne so Di questi esempi qua Che abbiamo fatto Probabilmente Vedi il camionista Diventa più un video Perché il lavoro Poi è un pretesto Il camionista diventa più un video Su proprio Come vivono loro Eccetera eccetera Magari farei Che ne so Il ginecologo Invece tu Che Metterli Eh Poi ce n'è una Che dicono qua in chat Il gondoliero a Venezia Questo me l'hanno consigliato Anche sotto nei commenti Oggi Penso sia Magari è stata La stessa persona Ed è super interessante Perché È un mondo Che Cioè nel mondo Penso esista solo a Venezia Non esiste Questo lavoro Da altre parti Ed è Pazzesco Poi so che Comunque Costicchia un po' La gondola Non l'ho mai fatto Ma il giro Non lo so Però so che È una cosa Veramente molto Anche tipo Le gondole Chi le produce O i Rob I remi Non è che Vai dal Remaio X È tutto Certificato Per essere Veramente una gondola Ottanta euro Dicono Ah Ottanta Cento Che sono tanti Sono tanti Per me Sì Però tanto Perché questo è Il tipico attrazione Che dice Sei lì Che fai Come ho visto Il video di Surry Che è andato a New York Per salire Sul Coso Cento E tanto sei lì Che cazzo fai Non ci sali È vero Per forza Quindi possono mettere Un prezzo Quando sei andato a Venezia Però ti dico che Ah Beh La ragazza era contenta Di ciò Sono Sono andato insieme No non siamo andati insieme Era prima che Ero andato con mia madre Forse Per una ragazza Vabbè certo che non sei andato In gondola Se adesso Posso Posso parlare con la fanciulla Senza inquadrarla Sì Se andate a Venezia E lui non ti propone Il giro in gondola Ti incazzi Dice così così Eh Che Perché pubblicamente Non vuole fare la figura Della cacca cazzo Però quindi Occhio È vero Anche perché Che cazzo fai a Venezia No Non so se c'è tanto A fare a Venezia Beh ci sono le gondole Le gondole no Le vongole anche È una gag Perché È una gag Salutiamo i veneziani Che a Gesboro Sono sempre generale Sono sempre Gentilissimi Esatto Vuoi ne qualcun altro? Sì ne ho ne ho Vado veloce Allora Questa è una cazzata Il social media manager Che secondo me Fa molto ridere Se tu Fai un video Allora oggi andiamo Da un social media manager E Vediamo E poi finisce il video subito Perché non fa niente Non sanno Seriamente Fare un cazzo Sui social Cioè Non è che c'è uno Che dici studia Per diventare Il social media manager Di solito il social media manager È questa persona Che assumono come stagista E poveretto Deve caricare Però le decisioni Magari le prende qualcun altro Alla fine È tipo Ne era andato uno virale Che sicuramente Ricorderai Non so se Lo ricordi C'è questo famoso Quello delle iene Sì No no Il vostro L'avete mandato virale voi Oh ma sì Però non lo citiamo No lo saluto Lo saluto Lo saluto Però il problema È che una professione Secondo me Non è vero Che il social media manager Non fa niente Il problema è che È un nome A cappello Che prende Tutte le professioni Tra cui niente Cioè No Cioè Proprio Nelle grandi aziende C'è questa figura Che è un ragazzino Poi chi prende le decisioni Sono tanti Ah quello sì Quello sì Non è lui che fa tutto Ci sono tante persone Lui magari È quello che carica le cose Capito Sì esatto Esatto In realtà Che ne so Ad esempio Ho un mio amico Che fa la parte grafica Così Cioè Può anche essere una figura Che in effetti Ti dà la linea editoriale Sui social Del determinato prodotto Si occupa anche Di fare le grafiche E c'è un po' Il manager Di queste cose qua Però è un nome Così inflazionato Che ti viene subito In mente Il tipo Che adesso tra l'altro Sono tutti scomparsi Perché ora sono Cryptogenesis Ma quello Vabbè È un altro capitolone Quello sarebbe molto Il Crypto Trader Vabbè Qualcosa bollo in pentola Diciamo Ci stiamo provando Non spoileriamo Non spoileriamo Che poi ti rubano le idee Il pilota di linea Ormai l'ho detto Qua è come la CIA Dopo che lo dici È finita È finita Te l'hanno già rubata L'idea Pilota di linea Questo devastante Il pilota di linea È molto difficile Stavo cercando Di fare una cosa Con un pilota Ma è tosta Perché Che poi Lì non sono loro A decidere Capito C'è sempre Le politiche aziendali Cioè vai a spiegare A Ryan Che mi devi far fare un video No no Anzi È proprio da regolamento È illegale Avere persone in cabina Nelle fasi di atterraggio Decollo Insomma Ci sono cazzi vari Lo so Però te l'ho messo lo stesso Perché mi piacciono gli aerei Guarda Sarebbe È più facile Secondo me Con gli aerei Tipo turistici Forse Sì gli aerei di linea Però non è più un mestiere Cioè Perdi un po' Un mestiere vero No No Che bastardo È come No non lo dico È una battuta No non lo dico A posto Ma No è che il pilota di linea Secondo me c'è quella cosa importante Degli orari Sono costretti a dormire Una quantità di tempo L'hostess L'hostess Sarebbe Più praticabile Che c'è questo stereotipo Sempre che va Cioè si dice Che vanno a letto Con i piloti Chissà Chissà se è vero Non lo so No perché i piloti Devono dormire Però secondo me In ogni città Se si fermano Eh esatto Se ci sono i turni Può essere C'è il filtro Pilota Pilota di aerei Et voilà Ok qua mi dico Ah intanto mi stanno dicendo Anche in chat Ma il vetraio a Murano È forte secondo me Già fatto probabilmente Da qualcuno però Non lo so Non lo so Il vetraio è forte Soprattutto ecco qua Vorrei vedere E sia interessante Vedere come fa Ma vorrei vedere Te fare il vetro Le merde che ti vengono Ecco Più sono Più sono cose Pragmatiche Ho fatto Ho fatto l'alcol test No ma si Ah si si soffie Giusto Eh il vetro soffiato Penso che si chiami così Sì ma Quel vetro puoi anche farlo Con la Con l'asta È vero Sì 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 Avevo visto una cosa Quello secondo me È bello Poi fa caldissimo Quello È una roba Dove ti vedrai È interessante vederti Per vedere Cosa C'è tutto un tipo di lavori Esatto Bravissimo C'è tutto un Tipo Quando prima ti ho detto Del Che cazzo è che ti ho detto L'imbianchino Secondo me non scammarli Quei mestieri Perché Cioè magari non tutti Però Volevo fare qualcosa A contatto con la terra Con lo sporco Eh Però Dico cacchio Boh forse io Non lo so eh Magari l'imbianchino Non lo guarderei Non lo so È vero è vero Suona di meno Però E qua mi dispiace Incularti con le tue stesse parole Tu hai detto che Ah no è vero Perché adesso tu fai solo cose Che tu guarderesti Esatto E tu non lo guarderesti Non lo guardo La domanda che mi faccio sempre Ma io lo guarderei Non lo so Cioè magari c'è qualche altro lavoro In quel mondo lì Eh Tipo Conoscendo Avendo studiato il geometra Ci sono Dei lavori Per esempio Quelli I saldatori Subacquei Esistono Quello Che lavorano Per esempio Quando si fa un ponte Vanno sott'acqua E saldano Per esempio I piloni dei ponti Le basi E quello sarebbe Non lo so Quello è figo Forse serve la licenza Per fare il sub Non lo so Credo dipenda Dalle profondità Non sono sicurissimo Saldatore di mucche Non credo esiste Saldatore di mucche Quante mucche hai visto Insieme No No perché Perché io vivo vicino A una Fabrica di dissaldazione Di mucche Quindi erano poi Tutte già fatte E no perché Una battuta Sai che è incredibile Questa è bello Comunque grazie Mi piace che ci si faceva Dei pompini a vicenda Molto bello Spero non ne voglia la ragazza Sono dei pompini Metaforici Esatto Giusto Dovevo ancora poi farlo Quello Ultimissimi Poi ti lascio andare Che ti ho preso Già tre ore Vabbè Il pescatore Ah no no Aspetta Stavo dicendo Sulla cosa delle robe manuali Ti dico Ad esempio Un mio amico Un ragazzo in chat Mi ha fatto un vlog Di venti minuti Di panetteria Lui che Ed è Sì è vero Ci metterà delle gag Che la nostra community capiva Perché era un fan Eccetera Però è interessante E secondo me Vedere uno che non sa fare qualcosa Fare qualcosa È straordinario Volevo fare una cosa Molto vicina a quello Un po' più piccante Volevo fare una cosa Le spianate Le spianate calabresi No 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 La spianata no Anche perché sono l'unico calabrese Che non mangia piccante C'è il reflusso Ah minchia Già Ventun'anni E quindi Volevo fare una cosa simile Ma era Troppo Sempre sul mondo dei dolci Della panetteria Però Mi hanno bloccato Mi hanno detto Non lo so Era una cosa folle Volevi fare la signorina Che esce dalla torta Ma esiste ancora Ancora secondo te Chissà Ma sicuramente qualcuna c'è morta E quella lì esiste ancora Lì Qualche torta variata Che non hanno mai aperto C'è ancora una signorina Che aspetta però Aspettala per sempre Ehm No Non so Vabbè Che cazzo vuoi Però secondo me No no Io apprezzo tantissimo I spunti L'artigianato Adesso fa 6 views Il video che succede Quando mi fai Pensavo fosse una gag Mi dicessi due puttate Ma in realtà Apprezzo tantissimo Che ti No no Volentieri Ma poi Secondo me Anche per chi ti segue Al di là di tutto E' interessante vedere Cosa ci sta dietro Il processo di scelta Di un creator Perché questa cosa si Perché questa cosa no No di solito Vabbè Io comunque Sono cresciuto Con il mondo Infatti tutto quello che faccio È un po' ispirato A tutto il mondo Delle serie tv Del film Cioè comunque Il paparazzo Ci sono stati Tantissimi film C'è stato in voga Negli anni 2000 Quindi tutto quel mondo lì E Sono Il banco dei pegni Ispirato Alla roba Del banco dei pegni Il Il DJ Perché Quando Ti ricordi che a un certo punto Nei film americani Del 2010 Ci ficcavano sempre Il DJ Per forza Era il top chad Del momento Il DJ E quindi C'è tanta C'è tanto Di quell'ispirazione Quindi Anche tipo Le serie tv Che guardo I documentari Che guardo Sono tutti molto Cioè se c'è il personaggio Che mi ispira Tipo sto guardando Una cosa interessantissima Non so se si dice così Correggimi se sbaglio Perché io non sono molto Anglosassone Suiz Ah si si Sì Bello Credo sia suiz Ma non sono sicuro Suiz 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 E una Sono sei Sette stagioni Sul cane La marca di cane Esatto Esatto Ed è Ed è molto interessante Che dici Cazzo L'avvocato Che Che c'ha da di Ma no Ma come L'avvocato Minchia Però dici Vabbè Fa le cause Punto No invece Cioè sembra un po' Un lavoro un po' Pesantone No Cioè comunque Ragione Su tutto Sulle grosse aziende Problemi delle multinazionali Proprio della Della Casa di Avvocati Non so come dire Sì Esatto Citano Better Call Soul Però Better Call Soul È più È più sul mondo Cioè E lui è un avvocato Un po' più È sull'umanità Secondo me Better Call Soul È sul Così come Breaking Bad È sulle Perso Cioè sull'umanità E in particolare Quei cinque Cinque umani Non l'ho visto Better Call Soul Ho visto solo Breaking Bad Ho visto qualche puntata Di Better Call Soul Però immagino che sia Sempre quello il filone Persone Che pagano poco L'avvocato Che vogliono pagarlo poco Insomma No? Sì Ma è un po' riduttivo Perché Vabbè Io sono un grande fan Di Vince Gilligan Perché secondo me Ha prodotto due serie tv Tra l'altro Better Call Soul Sta per finire Cioè È l'ultima stagione Ci sono adesso gli ultimi episodi Veramente belle Cioè io ho guardato Io ho guardato tantissime Ho guardato Non so più Quanti cazzo Di mesi In termini di ore Di merda E quando guardo quello Dico proprio Minchia Cioè è proprio Un altro pianeta La regia La fotografia I dialoghi Le musiche Tutto È proprio Devo guardarlo Se me lo Propsi così tanto Cacchio Ma lo guardo Sì 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 Guarda Alcuni dicono Che è meglio Di Breaking Bad Ah Breaking Bad Posso dire una cosa Unpopular Magari Ma l'hai vista in italiano In inglese Allora La mia ragazza Sì L'ho vista Io con la mia ragazza Litigo sempre Sulle serie Perché lei Io le guardo in inglese Eh ma se non la guardi In inglese Non è la stessa cosa È piemontese La tua ragazza No è di Catanzaro L'hai fatto in piemontese Ragazzi Io l'inglese Non lo capisco Perché Gabriele Vagnato Eccolo qua È arrivato È arrivato il trappolone Ti ho spompinato Tutta la sera Ma Impara l'inglese Soprattutto col mestiere Che fai tu Hai ragione Quella è una cosa Che mi ha fatto Fridere un sacco Non conoscerlo Però Non posso iniziare Dalle serie E invece sì Non ci capisco Un cazzo Se la guardo Dopo 5 minuti Mi addormento Sienta me Sienta me Adesso Allora Capo te lo dico qua Davanti a 4400 persone Impara l'inglese Punto Poi Ci sono È vero In lingua originale Ogni serie Assunta No ma a parte Vabbè Quello è un discorso Che lascia il tempo Che trova È proprio una questione Che per il tipo di mestiere Che fai tu Non poter guardare E godere appieno Di creator Internazionali Cioè Devi per forza Sapere l'inglese Quello ti do Assolutamente ragione Però Sul Cazzo I doppiatori italiani Possiamo dire Che sono In Ma infatti Questo Io sono Un po' tipo La tua ragazza E mi dico No Però Ammetto che Vabbè Ok Però alcune Alcune cose specifiche Tipo Breaking Bad Cambia proprio Perché è vero È un buon doppiaggio Però Minchia Brian Quando Quando I am the danger Cioè È importante È importante E poi la lingua È un Veicolo Della cultura Quindi quando tu godi Di un prodotto Scritto in inglese Parlato in inglese Recitato in inglese È la stessa cosa Per il giapponese Ovviamente Per la lingua Dovrai guardare i sottotitoli In qualche altro Linguaggio Perché se no Non lo capisci Però Secondo me È importante Avvicinarsi Sempre Alla cultura Di origine Dico questo Sono d'accordo Tipo Per esempio Aumet your mother Che la mia fidanzata Mi continua a indicare Lei dice Che è molto più bello In inglese Perché ci sono Dei riferimenti E delle Blank Altissimi In inglese Che in italiano Vengono No ma Aumet your mother Il personaggio Secondo me Di maggiore caratura Non è Ted Ed che è inutile Partiamo da questo E ovviamente Patrick Neil Harris L'attore Vabbè di tutti Certo Quello lì È un attore Omosessuale Ballerino Cantante Ok E straordinario Quello è proprio Minchia Dio Cioè una delle Migliori combinazioni Di umani Che potessero uscire È quello lì Ok Tu ti stai ascoltando La voce di un altro Su quello E la differenza Delle due voci È abissale È vero Quello sì Perché mi ha fatto Mi faceva risentire Delle frasi Perché lei L'aveva già visto Perché io Allora Altra tendenza che ho Non riguardo nulla Cioè io la guardo Alla volta Non ce la faccio A riguardarla Aumet your mother La riguarderei Onesto Perché è una serie Che ti tiene compagnia In un modo Eccoci qua E qui arriviamo Alla cosa che volevo dirti Per imparare L'inglese Dato che già l'hai vista Quindi non ti perderai Niente della trama E Dato che fidati In inglese E qua Sono pronto a scommettare Che c'è la tua ragazza E dice Sì 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 La È molto 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 Non dico meglio È più aderente A ciò che è Perché veramente Sembra uno di quei discorci C'è presente Quando c'hai Il parente Che soffre di alcolismo Che tutta la famiglia Si ritrova Sì esatto Guarda Il problema Non sei tu Il problema È quello che fai Capito Ah poi Attenzione che c'è uno in chat Che deve fare il polemico Del cazzo E dice Ah perché essere omosessuale È una qualità in più No Però essendo omosessuale Sì Dobbiamo dire sì No Essendo omosessuale Ha una voce Come dire Alta Ok Acuta Esatto Quindi Invece in italiano Parla tipo così E non ha senso Perché l'hanno voluto fare Chad Dato che scopa Invece Anche se lui è omosessuale Ha un personaggio Che scopa tantissimo Con le donne E questo crea Una cosa speciale Che solo Lì Con quella voce Puoi apprezzare Quindi Riguardati È vero Lei mi faceva rivedere Dei pezzi Dove gli slang Tipo Leggendario Assume Una pasta Totalmente Diversa È vero Com'è Leggendario No ma quello che dice prima Già mi sono dimenticato No dice un'altra frase Che è totalmente diversa In italiano Non è uno scivolone Non è che ha la voce Più alta Perché è omosessuale Intendo dire Che ha un atteggiamento Un po' Un po' Scivolone Vabbè diciamo Vabbè uno scivolone Dai Vabbè fate che cazzo volete Io Vabbè Andate a fare il culo Comunque Il punto principale È che io ti prescrivo So che ha sposato Ha sposato un figlio Quindi due figlie Due figli Quindi Sono per Quindi è tutto A tutto a caso Vabbè Quando ci sono dei figli Io dico sempre Che No Vabbè non capisco niente Dell'universo Ma Così ho annullato direttamente È una gag È una gag Ragazzi non l'avete capita Comunque Ti prescrivo In qualità di dottore Perché posso Ti prescrivo How I Met Your Mother In inglese Con i sottotitoli Allora Anche Frienz mi dice La mia fidanzata È bravissima Ma è una persona straordinaria Io ti avrei prescritto Friends Perché è più facile Secondo me Di How I Met Your Mother Ed è anche Un po' più Tu sei Di quella Di quel pensiero Che è più bella Frienz O più bella How I Met Your Mother Secondo me per te Sicuramente è più bella How I Met Your Mother Perché sei proprio Di una generazione Che viene dopo Io che sono in mezzo Ma posso capire È proprio La narrazione La narrazione È più fresca È geniale Cioè È quello che L'amico Emma Loro Chiamerebbe Callback Cioè Quando c'è una cosa Che è successa E quello che te la sta raccontando Sa che è già successa Cioè E tu ci fai Una cacchio di serie Su sto concetto È geniale È vero È vero È vero Questa è una caratteristica Che Frienz Non aveva Però Molto lineare Molto anni 80 Frienz Esatto Innanzitutto io guardavo Gli episodi Quando ero magari piccolo Mezzi storti Così Quindi c'è Effetto nostalgia Per Frienz Due Ha fondato Quella roba lì Cioè Quel genere lì Se l'ha inventato Frienz Quindi ha un che di Non so C'ha quello Nostaggico no? Come lui Come lui Perché lui Lvui Lvui Esatto Come lui Nostaggico che salutiamo Cosa? Dice che lei Soffre di questa cosa Che Cioè Dicono che ha copiato E dicono che sia copiato Aumetti ormai Dele abbia copiato Frienz Vabbè Un po' La storia degli amici Non l'hanno copiata È una Esatto È una Iterazione Di quella cosa lì Così come Parks and Recreation È una Iterazione Di The Office Sì Enfield l'ho visto Ragazzi Cioè Sì sì Enfield Poi Lui è un comico Incredibile Ho visto anche I suoi spettacoli Uno dei comici Più puliti Lui è molto pulito Nelle battute In quello che fa Anche The Office È geniale The Office È un'altra Fruibilità Però Bellissima Non dico che È a livelli di The Office Perché nulla sarà mai Di livelli di The Office Che È geniale Superstore È un esperimento Che hanno provato Non è a caso Non l'hai detto a caso Perché Sono Netflix Ma è geniale Perché Uno degli autori Quelli lì Non sono Non sono cose a caso Perché poi Chi ci lavora Sono gli stessi The Office Parks and Recreation Se ti piacciono Se ti piacciono Questo tipo qua Devi vedere anche The Good Place Tu hai un quadro Di quello Io di là Ho un quadro Di The Good Place Ok The Good Place E anche Superstore Sono tutti Brooklyn Nine-Nine Grazie chat Bravo Brooklyn Nine-Nine Sono tutti Parte Cioè hanno tutti La No Community Attenzione Community È Una serie tv Unica E straordinaria Però mi è piaciuta di me No L'ho vista Ma Anche là Secondo me Community La barriera linguistica Fa tanto 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 Perché Non è la qualità Dei doppi at o Cioè Perché Sono tipo Attori Però Brooklyn Nine-Nine È Una serie Cioè Penso Io devo ancora finire Di vederla Però è stata incredibile Adesso me la spoglio Sì 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 No Guarderò qui la chat No 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 Guarda Guarda Guardali tu Guardati Better Call Soul Eh Super Super Solo Vabbè L'hai vista Adesso stiamo guardando Cosa Oltre a Switch Cosa stiamo guardando Mi dimentico io Basta Finito Solo Switch Sto guardando E allora È Brooklyn Nine-Nine Che ho interrotto Però per i cazzi tuoi Prima di iniziare altre cose Inizia a vederti Guarda che Fidati La cosa dei sottotitoli Se riesci Se sai un po' di Vocabolario In inglese Ti suggerisco fortemente Di partire già Con i sub in inglese Perché In italiano Sono una Ultra fatica Sarà difficile Ok I primi 10 20 Pure 30 episodi Saranno a spaccamento Di coglioni Ma fidati Io è così Che ho imparato l'inglese Ho letto uno spoiler Spero Spero no Spero che non sia vero Perché il protagonista No non lo dico Non leggere Non leggere Non leggere Non leggere Ehm Va bene No Ehm E' una cosa che Non lo so se mi può aiutare Perché No comunque non è vero L'ho letto anch'io Non è vero Tipo 2-3 anni fa Sottovalutavo Un sacco No Ma invece Per esempio Brooklyn Nine Nine Ha un lavoro Registico Folle Folle Sono delle cose Semplicissime Ma Folli Che magari Aumento Your Mother Non ha Perché ha una regia Ma il punto di Aumento Your Mother Per te Specificamente Che l'hai già visto Quindi non ti perderai Quello è vero Quello è vero Quindi Assenta a me Ti dico io qual è il problema Tu non hai voglia E io ti dico E io ti dico Non me ne frega un cazzo Fallo lo stesso Ti obbligo io Fidati E' troppo importante E se riuscirò a convincerti A fare questa cosa Ti avrò dato Un regalo straordinario Che avrai fatto tu La situazione che fa E' un stampazziale Dice Si evviva Dice No ma Guarda Anche se chiedi in chat L'inglese Così veramente lo migliori E poi impari Come si Cioè come si ascolta E dopo un po' Mi ricordo ancora Che un giorno Aspettavo l'uscita Delle puntate di Breaking Bad Proprio alla mattina Tipo alle 6 di mattina Ho aperto la puntata Che ovviamente Non ho scaricato L'ho trovata per strada Alle 6 di mattina L'ho aperta Perché era lì Per terra E ho iniziato a vederla E a un certo punto Sento una parola Che non capisco E abbasso gli occhi Per tipo leggere i sottotitoli E non c'erano Perché non li avevano ancora Messi per strada Insieme E ho capito Che non avevo più bisogno Di sottotitoli Io comunque ce li ho adesso I sottotitoli Perché Mentre Magari fai Puoi buttare un occhio Però Tu perdi una cosa Sì ma non è Cioè dopo che impari a farlo La cosa del dire Eh ma mi distrago Quello è perché Cioè veramente Se dopo che lo fai per 10 ore non sei capace Sei un rincoglionito Quindi fidati Vai Devi avere solo il coraggio Di buttarti Ci proverò Ci proverò Con Ammetti Ormai Per sicuro Perché volevo rivederla Perché è l'unica serie Che dico Cazzo la riguardo E poi la riguarderai In inglese E potrai finalmente Affermare O capire Se è vero Che c'è tutta Sta differenza O no È vero Ho visto Squid Game In lingua originale Non so se va Giusto Molto bene Quello l'ho visto In lingua originale Ma perché ancora Non c'erano Non c'erano Minchia lì Ho letto dei commenti Oh io c'ho Netflix In Italia Non capita in cazzo Quella Più è distante La cultura Del prodotto Più è prezioso Che sia in lingua originale Ma hai sentito Che suoni Quelli non hanno Non è che hanno Le parole diverse da noi Hanno proprio I suoni diversi da noi Sì sì è vero Ma poi Sembrano sempre molto La cosa Sembrano sempre molto arrabbiati Nelle cose che fanno Nelle cose che Anche quando sono rilassati Sì È divertentissimo Vedere questa cosa Io da Persona che nota Cose stupide Ho notato questa cosa E mi ha Eh ma tutto fa contesto Anche il film che vinse l'Oscar Parasite Parasite Il lingua originale Gli urli che hanno loro Le cose che hanno loro È importante perché Anche quello Sì Ecco Te le perdi in italiano La lingua È veramente un veicolo Fondamentale Della cultura di un posto Pensa a quanto è importante Il dialetto Ad esempio Scaccia Ecco qual era L'altra serie Bella Molto bella Shameless Molto Molto bella L'americana Non ho visto l'inglese Giusto Beh tipo Shameless secondo me Puoi guardarla dopo Non è terribile guardarla Non in inglese Perché è proprio La caratterizzazione Dei personaggi Che Attenzione La mia fidanzatone È d'accordo Dice Attenzione È sempre meglio In inglese O nella lingua d'origine Non inglese Nella lingua d'origine Però questa qui Te la perdono Di più di altre Secondo me Perché Lì la cosa forte È proprio la trama Le personalità Dei tantissimi personaggi Le loro vite Le loro sofferenze Mentre Che secondo me Non passa proprio tanto Dalla voce E non sono degli attori Incredibili Secondo me Spero la tua ragazza Si dà conto A parte Fiona A parte Fiona Ok Solo Fiona In inglese Anche perché Lo dici Paraculo Perché è l'unica Che ha fatto Qualcos'altro Forza No C'è qualcun'altra Nessuno ha fatto Nient'altro Non lo so Non lo so Dark Io l'ho visto In inglese In tedesco In tedesco Perché O i sottotitoli Un vero pazzo Squilibrato Ah vedi Parasite Lo stanno dando Ora sulla Rai Bene In Ovviamente Aspetta perché Dark Non so se Io mi ero fatto Addirittura Una mappa Ce l'ho ancora Ce l'ho ancora Ti mando la foto Mi ero fatto Una mappa Concettuale Per capire I personaggi Chi erano I chi di Dark? Si No Io l'ho vista In quarantena Perché l'ultima Uscita in quarantena No Le prime Sono uscite in quarantena L'ultima comunque Io non Cioè Ci ho capito Ma Cioè Era davvero Complicabile Non era più fruibile Anche perché Secondo me Litti In quei tipi di film Tutto Tutto il mondo distopico Quando fai World building Quando crei un mondo E soprattutto Con la narrazione Del tempo Ti crei Non so perché Te l'ho mandata Su whatsapp Vabbè Mi sono fatto La mappa concettuale Per capire i personaggi Che è veramente Complicato Però Dark È una bella serie Secondo me Seriona Sì sì Mi dicevano Che è ispirata A qualcosa Di già Mi hanno detto Che era Non mi ricordo Chi Mi disse Ah no Guarda anche Questa cosa qua Perché prende Vabbè Il mio film Preferito In assoluto È Interstellar Che più o meno Siamo Eh beh Ma tu Là mi stai parlando Di un attore Con i coglioni Minchia Se stuplicanti Cioè È ovvio Che Però anche lì Ecco Tu che parli Della tua voce Sai quanto è importante La tua voce Che è impatto Alla voce Non puoi Non ragionare Sul fatto Che un attore Quando è veramente Di alta 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 Qualità Lo devi vivere Nella sua Fottuta voce Lo so Se Chiediamo a Chiediamogli di fare Chiediamo a Nolan Questo piacere Se rigira tutto il film In italiano Con i vari Tipo ci mettiamo Massimo Boldi Che fa Che fa il protagonista Al posto della figlia Mettiamo Non lo so Laura Chiatti Ah Proprio Con altri Proprio con altri attori Non loro Che parlano in italiano Le stesse battute Poi Tutti con le Uguali Queste scenografie Mi piacerebbe E Tra l'altro Parlando di Natale su Marte Scusami Questa cosa Mi faceva Natale su Marte Che viene rinominato così Perché no Parlando di Interstellar E di grandi attori True Detective L'hai visto? No Guardalo Prima stagione di True Detective Una serie? No Se io ti dico di guardarlo Non hai bisogno di sapere altro Guardalo E chi si permette? No True Detective È figo perché Ogni stagione È a sé stante Quindi io ti suggerisco Prima e terza Ma soprattutto Prima Cioè proprio È tipo Non l'ho mai vista È tipo American Horror Story Hai presente Come American Horror Story? No perché è una storia inventata No dico È tipo American Horror Story Che ogni stanza Sì 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 esattamente Sì certo 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 Però è più breve credo Perché è tipo The Assassination of Gianni Versace Ho visto Ho visto Su quel mondo lì Ho visto I delitti imperfetti La regola How to get away with murder Ma non mi ha fatto impazzire Se posso dire È la stessa cosa Ripetuta N stagioni Io l'ho guardata Ma l'ho guardata così Con le palle mosce Non è che fossi in tiro Non mi ha fatto impazzire No ci sta Ci sta Ma guarda Si possono anche guardare Delle cose non eccellenti Cioè uno le guarda E dice vabbè Vaffanculo Possiamo dire una cosa? No no Dimmi I film di Woody Allen Sono i film Meno fruibili del mondo E non posso dire Che mi piacciono Cioè non dico Cazzo Se mi devo guardare un filmone Non mi guardo Un film di Woody Allen Però Cazzo Ti racconto Un mondo incredibile Quindi vanno guardati Quello è l'unico sforzo Che faccio Su altri Non faccio degli sforzi Così grandi Tu riesci ad abbandonare Una serie tv? Si Si Io ho dovuto imparare Perché sono maniacale E ho finito Ho finito Smallville 12 stagioni Di quella merda Da 10 puntate l'una Da 50 minuti l'uno No Quando ero giovane Lo posso sopportare No 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 Orribile Come Cosa c'era lì? Flash No Lanterna verde Vabbè Grey's Anatomy Un altro mondo Però lì Parli di un'altra cosa Su quello Le piace Grey's Anatomy Alla tua fanciulla Non le piace Se vi piace il campo medico Vabbè Doctor House Uperiore The Good Doctor The Good Doctor Esatto Brava The Good Doctor Sempre fatto dagli stessi Di Doctor House Non sapevano più cosa fare Eh no Ha fatto l'esatto opposto Cioè Il Doctor House Lui era un bastardo E qua The Boys Cosa ne pensi The Boys The Boys Un prodotto Innanzitutto Nella scala di prodotti Amazon Secondo me È molto in alto Cioè È una delle migliori cose Che puoi guardare In generale Io me la sono goduta Ripeto C'è una differenza Tra dire che una cosa Ti è piaciuta E dire che Oggettivamente È una cosa che L'apprezzo È particolare Sì Cioè Per me Quando suggerisco qualcosa Suggerisco qualcosa Che so Che piace Quasi a qualunque umano Sensiente Quindi The Boys Non la suggerirei Una serie che ho abbandonato The Walking Dead Cioè Ci sta Perché Tipo La mia ragazza L'ha vista tutta Contro Insultando I sceneggiatori Cioè Chi aveva fatto la serie Questi professionisti Bastardi Merde Ma non guardare No ha ragione Ha ragione Ha ragione Così affezionata Che lei è una di quelle Che si affeziona E poi insulta Il sceneggio Ha ragione Ma L'ultima stagione E la penultima Hanno ampliamente recuperato Proprio perché È cambiato Il ganzo Che gestiva No no Non per soldi È proprio cambiato Il ganzo Che faceva le cose È anche prodotta Da Disney L'ultima due stagione Ah sì E forse è stata una cosa Fatta insieme È insieme Di AMC AMC Ma insieme a Disney È distribuita la Disney Ah l'ultima stagione di Disney Ah beh che ho detto io Non c'è più balzo No no Solo l'ultima Solo l'ultima È prodotta Solo distribuita Dico Ah solo distribuita Però penso che Abbiano avuto Più soldi Più grano Anche perché ho visto Dei spezzoni Da lei Sì ma non è quello È proprio perché Gli errori che c'erano prima Non erano di grano Erano errori di storia Scritta Con il buco del culo Proprio fuori grossi così Nella trama Cazzo Sì 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 Ma perché Poi magari Tipo i cesaroni No No i cesaroni Hanno una trama Dai cazzo Quanti erano belli I primi cesaroni Ragazzi Guarda È finita Dopo che Lucia ha lasciato Claudio Mendola È finita Il fatto che tu ti ricordi I miei personaggi Mi lascia disgustato Quando Elena Sofia Riccia Ha abbandonato Il povero Claudio Mendola Da lì è finita Ragazzi Ti dico questa cosa Pentole Di Sì Cazzo I cesaroni Sono una delle migliori cose E con questa Secondo me Qui raggiungiamo Un livello Così alto Che Facci questo regalo Facci Non so La voce Fammi Capire Pentole Bicchieri Sono nida ieri Esco a far la spesa E poi ti aiuto Volentieri Pizza e mortadella La strada È sempre quella Guardo tramontare Il sole Sulla garbatella Su torna a casa Dai Oh merda Gli accordi difficili Improvviso E per favore In fredda Nella tua stanza C'è qualcuno Che ti aspetta La casa Un tratto È diventata Un po' più stretta Sai cosa c'è C'è un aglomono Qui Che aspetta Solo noi E adesso Che Ci siete Voi Sai cosa c'è C'è una Girandola Che ruota Intorno a me Se non ci Ferma C'è un Perché Perché Soffiamo Insieme All'improvviso All'improvviso C'erano degli accordi Addirittura Dalla casa Dalla casa A fianco Infatti anche i miei vicini Saranno contenti Ma è solo mezzanotte Dai E Beh è difficile Continuare a parlare Dopo questa emozione Che abbiamo vissuto Grazie mille Perché mi hai regalato Un sogno Ti vai l'occhio Un po' commosso Addirittura Deve essere sincero A me piace ricordare Quando 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 ero piccolo Quando Lucia Ancora No Anche No Comunque abbiamo vissuto Una delle Secondo me Dei momenti più belli Cioè Gli anni 2010 Sono stati belli Cazzo Sì Sono stati belli Ma secondo me Vabbè Tu Anche i 2000 Credo che Tu Sei proprio arrivato Forse al Pelo 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 Però La transizione Le nostre generazioni Hanno vissuto La transizione Fondamentale Da No internet A internet E quella roba È di una preziosità Perché oggi Arriva già tutto Estremamente rarefatto Già tutto Concluso Mentre in quegli anni C'era quella Merda Che diventava MSN Che diventava Le chat IRC Che diventa E quel Aver potuto vedere Quel cavallo Crescere Ti fa capire Oggi La sua forza Mentre corre per strada Io Ricordo Quest'immagine Di me Io avevo Questa cugina Che aveva Il computer Fisso Una cosa difficile Da avere Con l'attacco No non aveva No non aveva ancora L'attacco All'internet Perché non c'era Così Mainstream Aveva Le metteva I giochi Aveva Crash Aveva The Sims Aveva I giochi Chi li ricorda Sono in pochi I giochi Della Kinder Li ricordi? Certo Che ti davano Il cd Marcio Era marcissimo Che dopo un po' Il computer Però ti rendevano Socialmente Il king Se ce li avevi Quelli Bellissimo Erano delle robe Incredibili I magicotti Ragazzi Che cazzo Se li ricorda I magicotti Come si chiamano I tunesini Una cosa del genere No quelli ci sono ancora oggi Ma comunque I tunes I tunes Ma comunque Che pensate Che c'era un tempo Per i ragazzi Più giovani In chat C'era un tempo Nel quale Si andava A casa di qualcuno Per giocare al computer Perché Non ce la avevi tu O non ce l'avevano loro Quindi Soltanto in due E si giocava Al simulatore Ed eri già Uno di quelli fighi Di Metal Slug In due Uno con le frecce E uno col Wazd Cazzo Guarda VHS dei magicotti No Straordinari 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 Bellissimo Magi 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 Ho ancora degli mestieri Ma te li dico veloci Perché mi sono rotto i coglioni Per parlare di mestieri Vai Meccanico Scrittore Wedding Planner Bello Il Wedding Planner è molto interessante Potrei farlo Soprattutto al sud Che vanno di moda È vero L'organizzatore di diciottesimi Quello è bello Devastante Quello è proprio molto interessante Vabbè Io come ultima cosa Ultimi cinque minuti Poi ti lascio veramente andare Che anche la tua fanciulla Vorrà Chiavare E Chiavare Sì Solo Chiavare Dato che Paolo Voleva farti diventare uno streamer E dato che io devo pisciare Ovviamente Non è questo l'ordine di importanza Ti lascerò Tre minuti Da solo Sì E devo riempire il buco Con la Bravo No ti lascerò tre minuti Intanto la vedi la chat no? Sì la vedo da qua Sarà la tua stream Per tre minuti Ti lascio anche le donazioni Così Anche perché così i soldi Me li faccio io Quindi Me ne vado La stream è tutta tua Così È certo Prego Con questa camera Con questa camera Non potrei fare nemmeno Faccio le live pezzotti Pezzotte Va bene E niente Io la prima cosa che farei È rispondere a delle Sì Non ho cenato Per fare I lampaclima Cazzo Eccoli quali erano I lampaclima Guarda qua I lampaclima Erano incredibili Ma è un pazzesco Dice I rottomini Quelli pelosi I lampaclima Quelli che avevano la cosa Sulla testa ragazzi I lampaclima Pazzeschi Facciamo una petizione Facciamo una petizione Per farli ritornare Che poi Tu premevi il pulsante Loro sparavano Questa luce Dalla testa Per i guardi Stai per culando Ma la petizione sarebbe Un petto Un petto piccolo Gabriele com'è possibile Che ti fai Che ti fai? Dai Niente Una gag Animatosi Ecco Vedi che Li tirano fuori tutti Ma come cacchio Fate a ricordarle I roteo I roteo I roteo Hai mai visto Il cartone Dei lampaclima Li ho visti Tutti ragazzi Avevo questa VHS Tra l'altro Prendi la VHS Facciamo un po' Di ADV Sul Va Dichiarato L'ADV Mi hanno mandato Questa VHS Incredibile Chi ha visto Bang Bang Baby Bellissimo Carina Una bella serie Una bella serie Parlano Parlano in Calabrese Alcuni sono molto Calabresi E altri Un po' di meno E mi hanno mandato Una cosa stranissima Mi hanno mandato Il VHS Bellissimo Da quanto tempo Niente Calabria di dove? Catanzaro Catanzaro Mettiamo ADV ADV I roteo I roteo I roteo Si chiamano Io li ho chiamati Sempre roteo Banno Per ADV Pensa se bannano Hank Per colpa mia Anni Anni Di Lavoro Questo Sto coglione Arrivato Dal nulla E Ha fatto Bannare Prime Video Sì Eri Prime Video Prodotta Il prodotto italiano Tra l'altro Audio Che vuol dire Audio off Non si sente? È una gag Giallo Rosso È una gag Che non funziona più l'audio? Aspetta Prendi video Sì Ti prendi video Prodotta Il prodotto italiano Tra l'altro Audio Che vuol dire audio? No dai ragazzi È una gag È una piccola gag Una piccola gag Va bene Potremmo parlare di tanto È difficile Fare È difficilissimo Parlare da solo Perché la prima cosa Che Ti viene in mente È Rispondere alle domande Però è davvero difficile Con questa qualità Video Quindi Cioè Spare un sacco Di puttanate Sì Cosa potremmo parlare? Uno se Dei preparare Un paio di argomenti Quanto tempo Ecco Forse Hank dovrà andare Dal Dall'andrologo Perché ci mette Tanto tempo A fare La pipì E questo tempo Se non riesce A riempirlo Dicendo cose Interessanti È davvero difficile Soprattutto se c'è Una gag In chat Con delle persone Che Che dicono Che non funziona L'audio E tu sai Che è una gag Però non è Non è scontato L'andrologo è quello Quanto ci metto Per un video Allora Questa settimana È andata così Pubblico un video Più o meno Un ogni due settimane E perché una settimana È davvero difficile Abbiamo registrato Di solito ci metto Tantissimo A montare i video Perché mi annoio Come dice il buon Hank Non c'è Non c'ho voglia E quindi Monto un'ora Poi mi fermo Monto un'altra ora Poi mi fermo Ho toccato per sbaglio Lo schermo del telefono Durante la live di ieri Ed ho perso il prime Ok Ma è una cosa grave S'ha perso il prime Il prime Ah il prime L'abbonamento Ma è tornato? Parlo delle voci metalliche Che comunque cazzo Prime la può pronunciare bene Prime È vero È un po' De posizionante Se posso dire Per il titolo Per il signor Jeff Che si chiama Che la voce metallica Non riesco a dire prime Eh sì Dovrebbero pensarci Te la sei cavicchiata Dai Ti ho visto un po' in difficoltà Però Ma perché Sai che è molto difficile Cioè È una cosa totalmente diversa Parlare Da soli Soprattutto se hai una qualità audio Dicevo come la mia Ma va Ma quello Quello non conta Io mangio cena Scusami ma Ah il mio primo abbonamento Grazie È arrivato un abbonamento Una sub A me? Te l'hanno regalata? No Non lo so Uno Il signor 081 Ha scritto Il tuo primo abbonamento Eh Prova Holy White Grazie per i due mesi Vediamo come ringrazio Devi ringraziare Fuck 96 per i tre Grazie Fuck 96 per i tre mesi Grazie mille Grazie Bravo Ci sei Allora Sei pronto Mi hanno un po' Hanno fatto La gag dell'audio Ma quella la fanno tutti E tutti ci cascano È giusto Poi tu non hai OBS davanti Se no te ne accorgi Se funziona il microfono Questo Bravo Bravo Infatti sei stato Si vede che sei giovane Su questi temi qua Io faccio parte Della generazione Z La generazione veloce Infatti te la sei cavata Vediamo come fai Quest'altro ringraziamento Invece Turbato Thomas Grazie mille per i 16 mesi Allora Aspetta Aspetta Thomas Turbato Nooo Che figura Sei un burlone Sei un burlone Che coglione Bravo Bravo Sono veramente sollevato È stata proprio una bella chiacchierata Perché Sei un ottimo muro Che dà feedback Ma su cui rimbalzano bene le puttanate Non so se è un complimento Però Per me lo è Per me lo è Sono un puttaniere Farà piacere alla mia fidanzia Ma basta con sto puttanere No Era Ora per fare una gag Sulla puttanata Ma io devo Mantenere quella cosa Che ti piacciono le puttanate Hanno due significati diversi Chiaro Chiaro Poi si può consultare il dizionario E Carissimo Io ti lascio L'ultima cosa che ti dico è L'ultimo episodio Che farai Sui mestieri Dovrai farlo Su te stesso Cioè Tu Che insegni a te Che fai vedere a te Un giorno Del tuo lavoro E il lavoro Che stai facendo quel giorno E il video Su di te Ma sai che Sarebbe molto Non interessante No È un mindfuck Molto Auto Come ti posso dire Auto Critica No Perché poi quando Ti rivedi filmato Sulle cose che fai Dici cazzo Io poi sono Un eterno insoddisfatto Perché le cose che faccio Mi fanno cagare Il giorno dopo E sarebbe Tipo Tipo I cantanti Che registrano La canzone E poi si ascoltano Esatto Poi si ascoltano La stessa cosa Beh su questo Qua ti do un consiglio Da fratello maggiore Ci sta Avere questa attitudine Di volersi sempre migliorare Perché è un motore Molto prezioso Nel mondo Del content creation Ma d'altro canto Non dimenticarti mai Dei tuoi successi Delle cose belle Che fai Perché è soltanto Con quelle Che hai il carburante Per farne Di sempre più belle Dopo questa perla Avevano un linguaggio Il mio Dalla tua Insultiamoci Come ultima cosa Insultiamoci Vai a fare in culo Impara l'inglese Salutami anche l'equip Di persone che hai lì Capra 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 ignorante Perfetto Mi sembra Sgarbi Ma piccola questione Sgarbi l'ho intervistato una volta Gli ho fatto tutta un'analisi Sulla tv Come è cambiata nel tempo Allora Dottor Sgarbi Cosa ne pensi di questa analisi Ma secondo me È un'analisi del cazzo Così Basta C'è la clip su youtube Se vuoi vedertelo E' stato bello Gli ho fatto tutta una desamina No perché il Maurizio Costanzo Show Trae da Un'analisi del cazzo Perfetto Allora grazie mille Quindi Grazie a Enk Grazie alla chat Che mi piace sempre Voi streamer non la guardate tanto Posso dire questa cosa Non è vero Io la guardo di continuo Non lo so Alcuni Non la guardano Però È la prima cosa che farei io Se Se dovessi fare una No Io i miei ragazzi li guardo sempre Sono Sono il motivo per cui siamo qua Sia dal punto di vista di Guardameli di più Perché Vedo tanti che li trascurano Un po' Non è giusto Non è giusto Li guarderò di più Io ti abbraccio carissimo È stato veramente divertente E un grande piacere Saluto Ripeto Tutti Tutta l'equip Complimenti in particolare Alla fanciulla Di cui vediamo la mano Che ha delle ottime teorie Sull'inglese E anche l'amico della birra Perfetto Quando vuoi Questo canale È sempre aperto per te Buona fortuna E grazie per fare dei video Che poi io guardo Senza fare niente E faccio i soldi Grazie a te Di nulla Un bel messaggio finale Ciao ragazzi Ciao caro Buona serata Ciao caro Ciao caro